Di Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini, voce di Lorenzo Pieri, Prologo Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi Contini, di Micolle, di Alberto, del professore Armanno e della signora Olga, e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la casa di Corso Ercole I d'Este, a Ferrara, poco prima che scoppiasse l'ultima guerra. Ma l'impulso, la spinta a farlo veramente, li ebbi soltanto un anno fa, una domenica d'aprile del 1957. Fu durante una delle solite gite di fine settimana. Distribuiti in una decina d'amici su due automobili, ci eravamo avviati lungo l'Aurelia, subito dopo pranzo, senza una meta precisa. A qualche chilometro da Santa Marinella, attirati dalle torri di un castello medioevale, che erano spuntati all'improvviso sulla sinistra, avevamo voltato per una viottola in terra battuta, finendo quindi a passeggiare in ordine sparso lungo il desolato arenile stendentesi ai piedi della rocca. Molto meno medioevale quest'ultima, esaminata da vicino di quel che non avesse promesso di lontano, quando dalla nazionale l'avevamo scorta a profilarsi contro luce sul deserto azzurro e abbagliante del Tirreno. Investiti in pieno dal vento, con la sabbia negli occhi, assordati dal fragore della risacca e senza neanche poter visitare l'interno del castello perché sprovvisti del permesso scritto di non so quale istituto romano di credito, ci sentivamo profondamente scontenti e irritati di avere voluto uscire da Roma in una giornata come quella che adesso in riva al mare si rivelava di un'inclemenza poco meno che invernale. Camminammo su e giù per circa venti minuti seguendo l'arco della spiaggia. L'unica persona allegra della comitiva appariva una bimbetta di nove anni, figlia della giovane coppia nella cui automobile ero ospitato. Elettrizzata proprio dal vento, dal mare, dai pazzi mulinelli della sabbia, Giannina dava libero sfogo alla sua natura allegra ed espansiva. Benché la madre avesse tentato di proibirglielo, si era levata scarpe e calze. Si spingeva incontro alle ondate che venivano all'assalto della riva, si lasciava bagnare le gambe fin sopra le ginocchia. Aveva l'aria di divertirsi un mondo, insomma, tanto che di lì a poco, quando rimontammo in macchina, vidi trascorrere nei suoi occhi neri e vividi, scintillanti sopra due tenere guancine accaldate, un'ombra di schietto rimpianto. Riguadagnata all'Aurelia, dopo qualche istante, giungemmo in vista del bivio di Cerveteri. Poiché era stato deciso di rientrare immediatamente a Roma, non dubitavo che si tirasse diritto, ma ecco invece, a questo punto, la nostra macchina rallentare più del necessario e il padre di Giannina mettere fuori il braccio dal finestrino. Segnalava alla seconda macchina, distanziata di una trentina di metri, la propria intenzione di svoltare a sinistra. Aveva cambiato idea. Ci trovammo così a percorrere la liscia stradetta asfaltata che porta in un momento ad un piccolo borgo di case in gran parte recenti e di lì, inoltrandosi a serpentina verso i colli della retroterra alla famosa necropoli etrusca. Nessuno chiedeva spiegazioni e anch'io stavo zitto. Di là dal paese, la strada, in lieve salita, costrinse la macchina a rallentare. Passavamo ora vicini ai cosiddetti montarozzi di cui è sparso fino a Tarquinia ed oltre, ma più dalla parte delle colline che verso il mare, tutto quel tratto del territorio del Lazio a nord di Roma, il quale non è altro dunque che un immenso, quasi ininterrotto cimitero. Qui l'erba è più verde, più fitta, più scura di quella del pianoro sottostante fra l'Aurelia e il Tirreno. Prova questa che l'eterno scirocco, che soffia di traverso dal mare, arriva quassù avendo perduto per via gran parte del salmastro e che l'umidità delle montagne non lontane comincia ad esercitare sulla vegetazione il suo influsso benefico. «Dove stiamo andando?» chiese Giannina. Marito e moglie sedevano entrambi nel sedile anteriore con la bambina in mezzo. Il padre staccò la mano dal volante e la posò sui riccioli bruni della figlia. «Andiamo a dare un'occhiata a delle tombe di più di quattro o cinquemila anni fa!» rispose col tono di chi comincia a raccontare una favola e perciò non ha ritegno ad esagerare nei numeri. «Tombe etrusche!» «Che malinconia!» sospirò Giannina appoggiando la nuca allo schienale. «Perché malinconia? Te lo hanno detto a scuola chi erano gli etruschi?» «Nel libro di storia gli etruschi stanno in principio vicino agli egizi e agli ebrei. Ma senti papà, secondo te erano più antichi gli etruschi o gli ebrei?» Il papà scoppiò a ridere. «Prova a chiederlo a quel signore», disse accennando a me col pollice. Giannina si voltò. Con la bocca nascosta dall'orlo dello schienale mi dette una rapida occhiata, severa, piena di diffidenza. Aspettai che ripetesse la domanda, ma niente, subito tornò a guardare dinnanzi a sé. Giù per la strada, sempre in lieve pendenza e fiancheggiata da una doppia fila di cipressi, ci scendevano incontro gruppi di paesani, ragazze e giovanotti. Era la passeggiata della domenica. Tenendosi a braccetto, alcune ragazze formavano a volte delle catene tutte femminili di cinque o sei. Strane, mi dicevo, guardandole. Nell'attimo che le incrociavamo, scrutavano attraverso i cristalli coi loro occhi iridenti, nei quali la curiosità si mescolava ad una specie di bizzarro orgoglio, di disprezzo appena dissimulato. Davvero strane, belle e libere. «Papà», domandò ancora Giannina, «perché le tombe antiche fanno meno malinconia di quelle più nuove?» Una brigata più numerosa delle altre, che occupava buona parte della carrozzabile e cantava in coro senza darsi pensiero di cedere il passo, aveva costretto l'automobile quasi a fermarsi. L'interpellato ingranò la seconda. «Si capisce», rispose, «i morti da poco sono più vicini a noi e appunto per questo li vogliamo più bene. Gli etruschi, vedi, è tanto tempo che sono morti», e di nuovo stava raccontando una favola, «che è come se non siano mai vissuti, come se siano sempre stati morti!» Altra pausa più lunga. Al termine della quale, eravamo già molto prossimi allo spiazzo antistante all'ingresso della necropoli, pieno di automobili e di torpedoni, toccò a Giannina impartire la sua lezione. «Però adesso che dici così», proferì dolcemente, «mi fai pensare che anche gli etruschi sono vissuti, invece, e voglio bene anche a loro, come a tutti gli altri». La successiva visita alla necropoli si svolse proprio nel segno della straordinaria tenerezza di questa frase. Era stata Giannina a disporci a capire. Era lei, la più piccola, che in qualche modo ci teneva per mano. Scendemmo giù nella tomba più importante, quella riservata alla nobile famiglia Matuta, una bassa sala sotterranea che accoglie una ventina di letti funebri, disposti dentro altrettante nicchie delle pareti di tufo, e adorna fittamente di stucchi policromi raffiguranti i cari fidati oggetti della vita di tutti i giorni, zappe, funi, accette, forbici, vanghe, coltelli, archi, frecce, perfino cani da caccia e volatili di palude. E intanto, deposta volentieri ogni residua velleità di filologico scrupolo, io venivo tentando di figurarmi concretamente ciò che potesse significare per i tardi etruschi di Cerveteri, gli etruschi dei tempi posteriori alla conquista romana, la frequentazione assidua del loro cimitero suburbano. Esattamente come ancora oggi, nei paesi della provincia italiana, il cancello del Camposanto e il termine obbligato di ogni passeggiata serale, venivano dal vicino abitato quasi sempre a piedi, fantasticavo, raccolti in gruppi di parenti e consanguinei di semplici amici, magari in brigate di giovani simili a quelle da noi incontrate e testè per istrada, oppure in coppia con la persona amata e anche da soli, per poi inoltrarsi fra le tombe a cono, solide e massicce, come i bunkers di cui i soldati tedeschi hanno sparso in vano l'Europa durante quest'ultima guerra, tombe che certo assomigliavano all'esterno, non meno che all'interno, alle abitazioni fortilizi dei viventi. Tutto, sì, stava cambiando, dovevano dirsi mentre camminavano lungo la via lastricata, che attraversava da un capo all'altro il cimitero, al centro della quale le ruote ferrate dei trasporti avevano inciso a poco a poco durante i secoli due profondi solchi paralleli. Il mondo non era più quello di una volta, quando Letruria, con la sua confederazione di libere città-stato aristocratiche, dominava quasi per intero la penisola italica. Nuove città più rozze e popolari, ma anche più forti e agguerrite, tenevano ormai il campo. Ma che cosa importava in fondo? Varcata la soglia del cimitero, dove ciascuno di loro possedeva una seconda casa e dentro questa il giaciglio già pronto su cui tra breve sarebbe stato coricato accanto ai padri, l'eternità non doveva più sembrare un'illusione, una favola, una promessa da sacerdoti. Il futuro avrebbe stravolto il mondo a suo piacere. Lì, tuttavia, nel breve recinto sacro ai morti familiari, nel cuore di quelle tombe dove insieme coi morti ci si era presicura di far scendere molte delle cose che rendevano bella e desiderabile la vita, in quell'angolo di mondo difeso, riparato, privilegiato, almeno lì e il loro pensiero, la loro pazzia, alleggiavano ancora dopo venticinque secoli attorno ai tumuli conici, ricoperti d'erbe selvagge. Almeno lì nulla sarebbe mai potuto cambiare. Quando ripartimmo era buio. Da Cerveteri a Roma non c'è molto, per coprire la distanza basta di solito un'ora d'auto. Quella sera, però, il viaggio non fu così breve. A metà strada l'Aurelia cominciò a ingolfarsi di macchine provenienti dalla Dispoli e da Fregene. Fummo costretti a procedere quasi a passo duomo. Ma già ancora una volta, nella quiete e nel torpore, anche Giannina si era addormentata, io riandavo con la memoria agli anni della mia prima giovinezza, e a Ferrara, e al cimitero ebraico, posto in fondo a via Montebello. Rivedevo i grandi prati sparsi di alberi, le lapidi e i cippi raccolti più fittamente lungo i muri di cinta e di divisione, e come se l'avessi addirittura davanti agli occhi, la tomba monumentale dei finzi contini. Una tomba brutta, d'accordo, avevo sempre sentito dire in casa, fin da bambino, ma pur sempre imponente e significativa, non fosse altro che per questo, dell'importanza della famiglia. E mi si stringeva, come non mai il cuore, al pensiero che in quella tomba, istituita sembrava, per garantire il riposo perpetuo del suo primo committente, di lui e della sua discendenza, uno solo fra tutti i finzi contini che avevo conosciuto ed amato io, l'avesse poi ottenuto questo riposo. Infatti, non vi è stato sepolto che Alberto, il figlio maggiore, morto nel 42 di un linfogranuloma, mentre Michol, la figlia secondogenita, e il padre, professore Ermanno, e la madre, signora Olga, e la signora Regina, la vecchissima madre paralitica della signora Olga, deportati tutti in Germania nell'autunno del 43, chissà se hanno trovato una sepoltura qualsiasi. Parte prima, capitolo primo. La tomba era grande, massiccia, davvero imponente, una specie di tempio tra l'antico e l'orientale, come se ne vedeva nelle scenografie dell'Aida e del Nabucco, in voga nei nostri teatri d'opera fino a pochi anni fa. In qualsiasi altro cimitero, l'attiguo camposanto comunale compreso, un sepolcro di tali pretese non avrebbe affatto stupito ed anzi, confuso nella massa, sarebbe forse passato inosservato. Ma nel nostro era l'unico. E così, sebbene sorgesse assai lontano dal cancello d'ingresso, in fondo ad un campo abbandonato, dove da oltre mezzo secolo non veniva sepolto più nessuno, faceva spicco, saltava subito agli occhi. Ad affidarne la costruzione ad un distinto professore d'architettura, responsabile in città di molti altri scempi contemporanei, risultava essere stato Moise Finzi Contini, bisnonno paterno di Alberto e Micol, morto nel 1863, poco dopo l'annessione dei territori delle legazioni pontifice al Regno d'Italia e la conseguente definitiva abolizione anche a Ferrara del ghetto per gli ebrei. Grande proprietario terriero, riformatore dell'agricoltura ferrarese, come si leggeva nella lapide che la comunità, a eternarne i meriti di italiano e di ebreo, aveva fatto affiggere lungo le scale del tempio di via Mazzini, in cima al terzo pianerottolo, ma dal gusto artistico ovviamente non troppo coltivato, una volta presa la decisione di istituire una tomba Sibi et Suis, doveva poi aver lasciato fare. Gli anni parevano belli, floridi, tutto invitava a sperare, a usare liberamente. Travolto dall'euforia per la raggiunta eguaglianza civile, quella stessa che da giovane, all'epoca della Repubblica Cisalpina gli aveva consentito di far suoi i primi mille ettari di terreno di bonifica, era comprensibile come il rigido patriarca fosse indotto, in quella circostanza solenne, a non lesinare nelle spese. Molto probabile che al distinto professore d'architettura fosse stata data carta bianca. E con tanto e simile marmo a disposizione, candido di Carrara, rosa carne di Verona, grigio maculato di nero, marmo giallo, marmo blu, marmo verdino, costui aveva, a sua volta, decisamente perduto la testa. Ne era venuto fuori un incredibile pasticcio, in cui confluivano gli echi architettonici del mausoleo di Teodorico di Ravenna, dei templi egizi di Luxor, del barocco romano e persino, come palesavano le tozze colonne del peristiglio, della Grecia arcaica di Cnosso. Ma tant'è, a poco a poco, anno dopo anno, il tempo, che a suo modo aggiusta sempre tutto, aveva provveduto lui a mettere accordo in quell'inverosimile mescolanza di stili eterogenei. Moise Finzi Contini, detto qui tempra austera di lavoratore indefesso, era scomparso nel 63. Sua moglie è Allegrina Camaioli, angelo della casa, nel 75. Nel 77, ancora giovane, seguito a vent'anni di distanza, nel 98, dalla consorte Josette, dei baroni Artom, del ramo di Treviso, l'unico loro figliolo, dottor Ingegner Menotti. Dopodiché, la manutenzione della cappella, che aveva accolto nel 1914 un solo altro membro della famiglia, Guido, un fanciullo di sei anni, era venuta chiaramente a mani via via meno attive, a ripulire, a rassettare, a riparare ai danni ogni volta che ce ne fosse bisogno e soprattutto a contrastare il passo al tenace assedio della vegetazione circostante. I ciuffi d'erba, un'erba scura, quasi nera, di tempra poco meno che metallica, e le felci, le ortiche, i cardi, i papaveri, erano stati lasciati avanzare e invadere con licenza sempre maggiore. Di modo che nel 24, nel 25, ad una sessantina d'anni dalla sua inaugurazione, quando a me, bambino, fu dato di vederla le prime volte, la cappella funebre dei finzi contini, un vero orrore non mancava mai di definirla mia madre alla cui mano mi tenevo, già si mostrava pressa poco com'è adesso, che da tempo non è rimasto più nessuno direttamente interessato ad occuparsene. Mezzo affondata nel verde selvatico, con le superfici dei suoi marmi policromi in origine lisce e brillanti, rese opache da bigi accumuli di polvere, menomata nel tetto e nei gradini esterni da solleoni e gelate, già allora essa appariva trasformata in quell'alcunché di ricco e di meraviglioso, in cui si tramuta qualunque oggetto, rimasto a lungo sommerso. Chissà come nasce e perché una vocazione alla solitudine. Sta il fatto che lo stesso isolamento, la medesima separazione di cui i finzi contini avevano circondato i loro defunti, circondava anche l'altra casa che essi possedevano, quella in fondo a corso Ercole I d'Este. Immortalata da Giosu e Carducci e da Gabriele d'Annunzio, questa strada di Ferrara è così nota agli innamorati dell'arte e della poesia del mondo intero che ogni descrizione che se ne facesse non potrebbe non risultare superflua. Siamo, come si sa, proprio nel cuore di quella parte nord della città che fu aggiunta durante il Rinascimento all'angusto borgo medievale e che appunto perciò si chiama Addizione Erculea. Ampio diritto come una spada dal castello alla mura degli angeli, fiancheggiato per quanto è lungo da brune moli di dimore gentilizie, con quel suo lontano sublime sfondo di rosso mattone, verde vegetale e cielo che sembra condurti davvero all'infinito. Corso Ercole I d'Este è così bello, tale è il suo richiamo turistico, che l'amministrazione socialcomunista responsabile del comune di Ferrara da più di 15 anni si è resa conto della necessità di non toccarlo, di difenderlo con ogni rigore da qualsiasi speculazione edilizia o bottegaia, insomma, di conservarne integro l'originario carattere aristocratico. La strada è celebre, inoltre, sostanzialmente intatta. E tuttavia, per quel che si riferisce in particolare a casa Finzi Contini, sebbene vi si acceda anche oggi da corso a Ercole I, salvo però per raggiungerla dover poi percorrere più di mezzo chilometro supplementare attraverso un immenso spiazzo poco o nulla coltivato, sebbene essa incorpori tuttora quelle storiche rovine di un edificio cinquecentesco, un tempo residenza o delizia estense che furono acquistate dal solito Moisé nel 1850 e che più tardi dagli eredi, a forza di adattamenti e restauri successivi, vennero trasformate in una specie di maniero neogotico all'inglese, adonta di tanti superstiti, motivi di interesse. Chi ne sa niente, mi domando, chi se ne ricorda più? La guida del touring non ne parla e ciò giustifica i turisti di passaggio. Ma a Ferrara stessa, nemmeno i pochi ebrei rimasti a far parte della languente comunità israelitica hanno l'aria di rammentarsene. La guida del touring non ne parla e questo è male, senza dubbio, però siamo giusti. Il giardino, o per essere più precisi, il parco sterminato che circondava casa Finzi Contini prima della guerra e spaziava per quasi dieci ettari fin sotto la mura degli angeli da una parte e fino alla barriera di Porta San Benedetto dall'altra, rappresentando di per sé qualcosa di raro, di eccezionale. Le guide del touring del primo novecento non mancavano mai di darne conto con un tono curioso tra lirico e mondano. Oggi non esiste più alla lettera. Tutti gli alberi di grosso fusto, tigli, olmi, faggi, pioppi, platani, ippocastani, pini, abeti, larici, cedri del Libano, cipressi, querce, lecci e perfino palme ed eucalipti, fatti piantare a centinaia da José Tartón, durante gli ultimi due anni di guerra sono stati abbattuti per ricavarne legna da ardere e il terreno è già tornato da un pezzo come era una volta, quando Moisé Finzi Contini lo acquistò dai Marchesi Avogli, uno dei tanti grandi orti, compreso dentro le mura urbane. Resterebbe la casa vera e propria, se non che il grande singolare edificio, assai danneggiato da un bombardamento del 44, è occupato ancora adesso da una cinquantina di famiglie disfollati, appartenenti a quello stesso misero sottoproletariato cittadino, non dissimile dalla plebe delle borgate romane, che continua ad ammassarsi soprattutto negli anditi del palazzone di via Mortara, gente inasprita, selvaggia, insofferente. Qualche mese fa ho saputo che hanno accolto a Sassate l'ispettore comunale all'igiene, che c'era andato in bicicletta per un sopralluogo, i quali, allo scopo di scoraggiare ogni eventuale progetto di sfratto da parte della soprintendenza ai monumenti dell'Emilia e Romagna, sembra che abbiano avuto la bella idea di raschiare dalle pareti anche gli ultimi residui di pitture antiche. Ora, perché mandare dei poveri turisti allo sbaraglio? Immagino che si siano chiesti i compilatori dell'ultima edizione della guida del Turing e, infine, per vedere che cosa. Parte I, capitolo II Se della tomba di famiglia dei Finzi Contini poteva dirsi che era un orrore e sorriderne, sulla loro casa, isolata laggiù fra le zanzare e le rane del canale Panfiglio e dei fossi di scarico e soprannominata invidiosamente la Magna Domus, su quella no, nemmeno dopo cinquant'anni ci si riusciva a sorridere. Oh, ci voleva ben poco per sentirse ancora offesi. Bastava, che so, trovarsi a passare lungo l'interminabile muro di cinta che delimitava il giardino dal lato di corso Ercole I d'Este, muro interrotto circa a metà da un solenne portone di quercia scura, privo affatto di maniglie, oppure dall'altra parte, dalla cima della mura degli angeli imminente al parco, penetrare con lo sguardo attraverso l'intrico selvoso dei tronchi, dei rami e del fogliame sottostante, fino a intravedere lo strano, aguzzo profilo della dimora padronale, con dietro, molto più in là, al margine di una radura, la macchia bigia del campo di tennis. Ed ecco che l'antico sgarbo del disconoscimento e della separazione tornava ancora a far male, a bruciare quasi come da principio. Che idea da nuovi ricchi, che idea bislacca, soleva ripetere mio padre stesso con una specie di appassionato rancore ogni volta che gli capitava di affrontare l'argomento. Certo, certo, ammetteva gli ex proprietari del luogo, i marchesi avogli avevano nelle vene sangue bluissimo, orto e rovine inalberavano a bantiquo il molto decorativo nome di barchetto del duca, tutte cose eccellenti come no, tanto più che Moise Finzi Contini, al quale andava riconosciuto l'indubbio merito di avere visto l'affare, nella conclusione del medesimo non doveva averci rimesso che i proverbiali quattro baiocchi, ma con questo, aggiungeva immediatamente, era proprio necessario soltanto per questo che già il figlio di Moise Menotti, detto non senza significato dal colore di un suo eccentrico cappottino foderato di martora al mat mugnaga, il matto al bicocca, prendesse la decisione di trasferire la moglie Cosette e se stesso in una parte della città così fuori mano, insalubre oggi, figuriamoci allora, e per di più così deserta, malinconica e soprattutto inadeguata, e pazienza loro, i genitori, che appartenevano ad un'epoca diversa e in fondo potevano benissimo pagarsi il lusso di investire tutti i quattrini che volevano su quelle vecchie pietre, pazienza specialmente lei, Cosette Arthom, dei baroni Arthom del ramo di Treviso, donna magnifica, i suoi dì, bionda, gran petto, occhi celesti, e di fatti la madre era di Berlino, una Olschke, la quale oltre che stravedere per casa Savoia, al punto che nel maggio del 98, poco prima di morire, aveva preso l'iniziativa di mandare un telegramma di plauso al generale Bava Beccaris, cannoneggiatore di quei poveri diavoli di socialisti e anarchici milanesi, oltre che ammiratrice fanatica della Germania dall'elmo chiodato di Bismarck, non si era mai curata da quando il marito Menotti, eternamente ai suoi piedi, l'aveva insediata nel suo valalla, di dissimulare la propria avversione all'ambiente ebraico ferrarese, per lei troppo ristretto, come diceva, nonché in sostanza, quantunque la cosa fosse parecchio grottesca, il proprio fondamentale antisemitismo. Il professore Ermanno è la signora Olga, tuttavia, lui un uomo di studi, lei una herrera di Venezia, e cioè nata da famiglia sefardita ponentina, molto buona, senza dubbio, però piuttosto dissestata ed altronde osservantissima. Che razza di persone si erano ficcati in mente di essere diventati, anche essi, dei veri nobili? Si capisce, eh sì, si capisce, la perdita del figlio Guido, il primo genito morto nel 1914, a soli sei anni, in seguito ad un attacco di paralisi infantile di tipo americano fulminante, contro il quale nemmeno Corcos aveva potuto nulla, doveva avere rappresentato per loro un colpo durissimo, soprattutto per lei, la signora Olga, che da allora in poi non aveva più smesso il lutto. Ma a parte questo, non c'era caso che dai e dai, a forza di vivere separati, si fossero montata a loro volta la testa, ricadendo nelle medesime assurde fisime di menotti finzi contini e della sua degna consorte? Altro che aristocrazia. Invece di darsi tante arie, avrebbero fatto assai meglio, almeno loro, a non dimenticare chi erano, di dove venivano, se è positivo che gli ebrei, sefarditi e aschenazziti, ponentini e levantini, tunisini, berberi, iemeniti e perfino etiopici, in qualunque parte della terra, sotto qualsiasi cielo la storia li abbia dispersi, sono e saranno sempre ebrei, vale a dire parenti stretti. Il vecchio Moise non si dava mica arie, lui, non aveva mica fumi nobiliari nel cervello. Quando stava di casa in ghetto, al numero 24 di via Vigna Tagliata, nella casa dove, resistendo alle pressioni dell'altezzosa nuora trevigiana, impaziente di traslocare al più presto al barchetto del duca, aveva voluto ad ogni costo morire. Andava lui stesso a fare la spesa ogni mattina, in Piazza delle Erbe, con la sua brava sporta sotto il braccio. Proprio lui che, soprannominato appunto per questo al Gat, la sua famiglia l'aveva tirata su dal niente. Perché sì, se era in dubbio che la Josette fosse scesa a Ferrara facendosi accompagnare da una grandote, consistente di una villa nel Trevigiano affrescata dal tiepolo, di un ricco assegno e di gioielli, si intende di molti gioielli, che alle prime del comunale, contro lo sfondo di velluto rosso del palco di proprietà, attiravano sulla sua fulgida scollatura gli sguardi dell'intero teatro, non meno in dubbio, era che fosse stato al Gat, soltanto lui, a mettere insieme nel basso ferrarese, tra codigoro, massa fiscaglia, e Iolanda di Savoia, le migliaia di ettari sui quali si fondava ancor oggi il grosso del patrimonio familiare. La tomba monumentale al cimitero, ecco l'unico errore, l'unico peccato di gusto, soprattutto, di cui si potesse accusare Moise Finzi Contini. Ma poi stop! Così diceva mio padre. A Pasqua, particolarmente, durante le lunghe cene che erano continuate a svolgersi a casa nostra, anche dopo la morte del nonno Raffaello, e a cui convenivano parenti e amici in una ventina. Ma anche a Kippur, quando gli stessi parenti e amici tornavano da noi per sciogliere il digiuno. Ricordo però una cena di Pasqua, nel corso della quale alle solite critiche, amare, generiche, sempre le stesse, e fatte soprattutto per il gusto di rievocare le vecchie storie della comunità, mio padre ne aggiunse di nuove e sorprendenti. Fu nel 1933 l'anno della cosiddetta infornata del decennale. Grazie alla clemenza del duce, che d'un tratto quasi ispirato, aveva deciso di aprire le braccia ad ogni agnostico o avversario di ieri, anche nell'ambito della nostra comunità il numero degli iscritti al fascio, era potuto salire di colpo al 90%, e mio padre, che sedeva laggiù, al suo posto abituale di capotavola, al medesimo posto da cui il nonno Raffaello aveva pontificato per lunghi decenni con ben altra autorità e severità, non aveva mancato di compiacersi dell'evento. Il rabbino dottor Levi aveva fatto benissimo, diceva, ad accennarne nel discorso da lui pronunciato di recente a scuola italiana, quando alla presenza delle maggiori autorità cittadine, del prefetto, del segretario federale, del podestà, del generale di brigata comandante del presidio, aveva commemorato lo statuto. Eppure non era del tutto contento il papà. Nei suoi occhi azzurri, di ragazzo, pieni di ardore patriottico, leggevo un'ombra di disappunto. Doveva avere individuato un inciampo, un piccolo ostacolo imprevisto e sgradito. E di fatti, avendo cominciato ad un certo punto a contare sulle dita quanti di noi, di noi iudim ferraresi, fossero ancora rimasti fuori, ed essendo infine venuto ad Ermanno Finzi Contini, il quale non aveva mai preso la tessera, è vero, ma in fondo, tenuto anche conto del cospicuo patrimonio agricolo di cui era proprietario, non si era mai capito bene perché, improvvisamente, come seccato di sé medesimo e della propria discrezione, si risolse a dare notizia di due avvenimenti curiosi, fra loro magari senza rapporto, premise, ma non per questo meno significativi. Primo, che l'avvocato Geremia Tabet, quando nella sua qualità di sansepolcrista e di amico intimo del segretario federale, si era recato apposta al barchetto del duca per offrire al professore la tessera già intestata, non soltanto se l'era veduta a restituire, ma di lì a poco, molto gentilmente, senza dubbio, però altrettanto fermamente, era stato messo alla porta. «E con che scusa?» domandò qualcuno flebile. «Non si era mai saputo che Ermanno Finzi Contini fosse un leone». «Con che scusa ha rifiutato?» scoppiò a ridere mio padre. «E con qualcuna delle solite, e cioè che lui è uno studioso, vorrei poi sapere di quale materia, che è troppo vecchio, che in vita sua non si è mai occupato di politica, eccetera, eccetera. Del resto è stato furbo l'amico. Deve avere notato la faccia nera di Tabet e allora, zac, gli ha fatto scivolare in tasca cinque carte da mille. Cinque mila lire, sicuro, da devolversi a favore delle colonie marine e montane dell'Opera Nazionale Balilla. L'ha pensata bene, no? Ma state a sentire la seconda novità. E passò ad informare la tavolata come qualmente il professore, con lettera fatta per venire alcuni giorni avanti al Consiglio della Comunità per tramite dell'Avvocato Renzo Galassi Tarabini, poteva scegliersi un legale più collo torto, più baciapile, più alto di così, avesse chiesto in via ufficiale il permesso di restaurare, a proprie spese, per uso della famiglia e degli eventuali interessati, l'antica piccola sinagoga spagnola di via Mazzini, da almeno tre secoli sottratta al culto e adibita a magazzino di sgombero. Parte prima, capitolo terzo. Nel 1914, quando il piccolo Guido morì, il professore Ermanno aveva 49 anni, la signora Olga 24. Il bambino si sentì male, fu messo a letto con febbre altissima e subito cadde in un profondo sopore. Venne chiamato d'urgenza il dottor Corcos. Dopo un muto e interminabile esame, eseguito a sopracciglia aggrottate, Corcos rialzò bruscamente il capo e fissò, grave, prima il padre, quindi la madre. Le due occhiate del medico di casa furono lunghe, severe, stranamente sprezzanti. Intanto, sotto i grossi baffi umbertini, già tutti grigi, le labbra gli si piegavano, nella smorfia amara, quasi vituperosa, dei casi disperati. Non c'è più niente da fare, intendeva dire il dottor Corcos con quegli sguardi e quella smorfia, ma forse anche altro, e cioè che lui pure, dieci anni avanti, e chissà se poi ne parlò quel giorno medesimo prima di accomiatarsi, o invece, come accadde, soltanto cinque giorni più tardi, rivolto al nonno Raffaello, mentre seguivano entrambi passo passo l'imponente funerale, lui pure aveva perduto un bambino, il suo Ruben. Anch'io ho conosciuto questo strazio, anche io so bene che cosa vuol dire vedere morire un figlio di cinque anni, fece a un tratto Elia Corcos. A testa china e con le mani appoggiate al manubrio della bicicletta, il nonno Raffaello gli camminava a fianco. Pareva stesse contando ad uno ad uno i ciottoli di corso Ercole I d'Este. A quelle parole davvero inconsuete, in bocca allo scettico amico, si girò stupito a guardarlo. E infatti che cosa sapeva lo stesso Elia Corcos? Aveva esaminato a lungo il corpo inerte del bambino, decretato fra sé e sé proniosi in fausta e quindi rialzati gli occhi. Li aveva fissati in quelli impietriti dei due genitori, un vecchio il padre, la madre ancora una ragazza. Per quali vie sarebbe potuto scendere a leggere in quei cuori e chi altro mai in futuro? L'epigrafe dedicata al piccolo morto nella tomba monumento del cimitero israelitico, sette righe assai blandamente incise e inchiostrate su un umile rettangolo verticale di marmo bianco, non avrebbe detto che, ai Guido Finzi Contini, 1908-1914, eletto di forma e di spirito, i tuoi genitori si preparavano a vie più amarti, non già a piangerti. Vie più. Un sommesso singhiozzo e basta. Un peso sul cuore, da non dividere con nessun'altra persona al mondo. Alberto era nato nel XV, Micol nel XVI, all'incirca miei coetanei. Non furono mandati né alle elementari ebraiche di via Vigna Tagliata, dove Guido aveva frequentato senza finirla la prima preparatoria, né più tardi al pubblico liceo ginnasio Guarini, precoce croggiuolo della migliore società cittadina, ebraica e non ebraica, e quindi almeno altrettanto di prammatica. Studiavano invece privatamente sia Alberto sia Micol, il professore Ermanno, interrompendo ogni tanto i suoi solitari studi di agraria, fisica e storia delle comunità israelitiche d'Italia, per sorvegliare da vicino i loro progressi. Erano gli anni folli, ma a loro modo generosi, del primo fascismo emiliano. Ogni azione, ogni comportamento, venivano giudicati, anche da chi come mio padre citava volentieri Orazio e la sua aurea Mediocritas, attraverso il rozzo vaglio del patriottismo o del disfattismo. Mandare i propri figlioli alle scuole pubbliche era considerato in genere patriottico, non mandarceli disfattistico, e quindi per tutti coloro che ce li mandavano, in qualche modo offensivo. Se non che, pur così segregati, un esile rapporto con l'ambiente esterno, con i ragazzi che come noi andavano alle scuole pubbliche, Alberto e Micol Finzi-Contini l'avevano sempre mantenuto. Erano due professori del Guarini a fungere da tramite. Il professore Meldolesi, per esempio, nostro insegnante d'italiano, latino, greco, storia e geografia, un pomeriggio sì e uno no, prendeva la bicicletta e dal quartiere di Villini, sorto in quegli anni fuori Porta San Benedetto, dove viveva da solo, in una camera immobiliata di cui era solito vantarci la vista e l'esposizione, si spingeva fino al barchetto del Duca, per restarci talvolta tre ore consecutive. Altrettanto faceva la signora Fabiani, titolare di matematica. Dalla Fabiani, per la verità, non era mai trapelato niente, di origine bolognese, vedova senza figli, oltre cinquanta, molto di chiesa, durante le interrogazioni la vedevamo sempre come sul punto di essere rapita in estasi. Strabuzzava di continuo gli occhi cerulei, fiamminghi, bisbigliava fra sé, pregava, pregava per noi poverini, certo, inetti all'algebra quasi tutti, ma anche forse per affrettare la conversione al cattolicesimo, dei signori israeliti a casa dei quali si recava due volte alla settimana. La conversione del professore Ermanno e della signora Olga, ma dei due ragazzi soprattutto. Alberto, così intelligente, e Micol, così viva e carina, doveva sembrarle una faccenda troppo importante, troppo urgente perché rischiasse di comprometterne le probabilità di riuscita con qualche banale indiscrezione scolastica. Il professor Meldolesi, al contrario, non taceva affatto. Nato a Comacchio da famiglia contadina, educato in seminario fino a tutto il liceo, del prete e del piccolo arguto quasi femminile prete di campagna, aveva moltissimo, passato poi a studiare lettere a Bologna, in tempo per assistere alle ultime lezioni di Giosu e Carducci, di cui si vantava umile scolaro, i pomeriggi trascorsi al barchetto del Duca, in ambiente saturo di memorie rinascimentali, col tè delle cinque preso in compagnia della famiglia al completo, e la signora Olga rientrava dal parco molto spesso a quell'ora, le braccia piene di fiori, nonché più tardi, magari, su in biblioteca, godendo fino a buio della dotta conversazione del professore Ermanno, quei pomeriggi straordinari rappresentavano evidentemente per lui qualcosa di troppo prezioso perché non ne facesse materia anche con noi di continui discorsi e divagazioni. Dalla sera, poi, che il professore Ermanno gli aveva rivelato come il Carducci nel 1875 fosse stato ospite dei suoi genitori per una decina di giorni, facendogli quindi vedere la stanza che aveva occupato, toccare il letto su cui aveva dormito e dandogli infine da portare a casa perché se lo guardasse con ogni comodo un mannello di lettere autografe mandate dal poeta alla madre, la sua agitazione, il suo entusiasmo non avevano più conosciuto limiti, al punto di persuadersi e di tentare di persuadere noi pure che quel famoso verso della canzone di Legnano o bionda o bella imperatrice o fida, nel quale sono chiaramente preannunciati gli ancora più famosi onde venisti quali a noi secoli simmite bella ti tramandarono e insieme la clamorosa conversione del grande Maremmano all'eterno femminino regale e sabaudo fosse stato per l'appunto ispirato dalla nonna paterna dei suoi allievi privati, Alberto e Micol Finzi-Contini. «Oh, quale magnifico soggetto sarebbe stato questo!» aveva sospirato una volta in classe il professor Meldolesi per un articolo da mandare a quella stessa nuova antologia dove Alfredo Grilli, l'amico e collega Grilli, veniva pubblicando da tempo le sue acute postille serriane. Un giorno o l'altro, usando si capisce di tutta la delicatezza opportuna al caso, lui si sarebbe studiato di accennarne al proprietario delle lettere e volesse il cielo che quest'ultimo, considerati i tanti anni trascorsi e data l'importanza e ovviamente la perfetta correttezza di un carteggio dove il Carducci si rivolgeva alla dama soltanto in termini di amabile baronessa, di ospite gentilissima e simili, volesse il cielo che quest'ultimo non dicesse di no. Nella felice ipotesi di un sì ci avrebbe senz'altro pensato lui, Giulio Meldolesi, purché anche di questo gli venisse dato esplicito consenso da parte di chi aveva ogni diritto di darlo o di innegarlo, a copiare ad una ad una le lettere, accompagnando quindi quelle sante schegge, quelle venerande faville del gran maglio di un minimo di commento. Di che cosa bisognava infatti il testo del carteggio? Di nient'altro che di una introduzione di carattere generale integrata semmai da qualche sobria nota storico-filologica a piedi pagina. Ma a parte gli insegnanti che avevamo in comune, c'erano poi gli esami riservati ai privatisti, esami che si svolgevano a giugno contemporaneamente agli altri esami di Stato e interni, a metterci almeno una volta all'anno in contatto diretto con Alberto e Micol. Per noi allievi interni, soprattutto se promossi, non c'erano forse giorni più belli. Come se ad un tratto rimpiangessimo i tempi appena appena finiti delle lezioni e dei compiti, per darci convegno non trovavamo per solito luogo migliore dell'atrio dell'istituto. Si indugiava nell'androne vasto, fresco e semibuio come una cripta, assiepandoci davanti ai grandi fogli bianchi degli scrutini finali, affascinati dai nostri nomi e da quelli dei nostri compagni, che a leggerli così, trascritti in bella calligrafia ed esposti sotto vetro, di là da una leggera grata di fil di ferro, non finivano mai di stupirci. Era bello non aver più niente da temere dalla scuola. Bello poter uscire di lì a poco, nella luce limpida e azzurra delle dieci di mattina, ammiccante laggiù, attraverso la posterla d'ingresso. Bello avere dinnanzi a sé lunghe ore di ozio e di libertà da spendere come meglio ci fosse piaciuto. Tutto bello, tutto stupendo, in quei primi giorni di vacanza. E quale felicità, al pensiero sempre ritornante della prossima partenza per il mare o per la montagna, dove dello studio che ancora affaticava e angustiava tanti altri, si sarebbe perduto quasi il ricordo. Ed ecco, tra questi altri, rozzi ragazzi di campagna, i più figli di contadini preparati agli esami dal parroco del paese, che prima di varcare la soglia del guarini, si guardavano attorno smarriti come vitelli condotti al mattatoio, ecco Alberto e Micol Finzi-Contini, appunto. Niente affatto smarriti loro, abituati come erano da anni, a presentarsi e a trionfare. Forse leggermente ironici, specie nei miei riguardi, quando attraversando l'atrio mi scorgevano fra i miei compagni e mi salutavano di lontano, con un cenno ed un sorriso. Ma educati sempre, magari troppo, e gentili, proprio come degli ospiti. Non venivano mai a piedi e tanto meno in bicicletta, bensì in carrozza. Un brum azzurro scuro, dalle grandi ruote gommate, le stanghe rosse e lustro tutto di vernici, cristalli, nichelature. La carrozza attendeva davanti al portone del guarini per ore e ore, non spostandosi che per cercare l'ombra. E bisogna dire che esaminare l'equipaggio da vicino, in tutti i particolari, dal cavallone poderoso, di tanto in tanto calmamente scalciante, con la coda mozza e con la criniera tagliata corta a spazzola, sino alla minuscola corona nobiliare che spiccava argentea sul fondo blu degli sportelli, ottenendo talora dall'indulgente cocchiere in tenuta bassa, ma assiso in serpa come su un trono, il permesso di montare su uno dei predellini laterali, e ciò perché potessimo contemplare a nostro agio il naso schiacciato contro il cristallo, l'interno tutto grigio, felpato e in penombra. Sembrava un salotto, in un angolo c'erano perfino dei fiori infilati dentro un esile vaso oblungo a foggia di calice. Poteva essere anche questo un piacere, anzi lo era senz'altro, uno dei tanti avventurosi piaceri di cui sapevano esserci prodighe quelle meravigliose adolescenti mattine di tarda primavera. Parte prima, capitolo quarto. Per quanto concerne me personalmente, nei rapporti con Alberto e Micol c'era stato da sempre qualcosa di più intimo. Le occhiate d'intesa, i cenni confidenziali che fratello e sorella mi indirizzavano ogni qual volta ci incontravamo nei pressi del guarini, non alludevano che a questo, lo sapevo bene, riguardante noi e soltanto noi. Qualcosa di più intimo. Che cosa propriamente? Si capisce, in primo luogo eravamo ebrei, e ciò in ogni caso sarebbe stato più che sufficiente. Tra noi poteva in pratica non essere successo mai nulla, nemmeno il poco che derivava dall'avere scambiato di tempo in tempo qualche parola, ma la circostanza che fossimo quelli che eravamo, che almeno due volte all'anno, a Pasqua e a Kippur, ci presentassimo coi nostri rispettivi genitori e parenti stretti davanti ad un certo portone di via Mazzini, e spesso accadeva che dopo averne varcato la soglia tutti assieme, l'atrio successivo, angusto e mezzo al buio, obbligasse i grandi alle scappellate, alle strette di mano, agli inchini ossequiosi che per il resto dell'anno non avevano nessun'altra occasione di scambiarsi. A noi ragazzi non sarebbe occorso niente di più perché ritrovandoci altrove e soprattutto in presenza di estranei, passasse subito nei nostri occhi l'ombra o il riso di una certa speciale complicità e connivenza. Che fossimo ebrei tuttavia e iscritti nei registri della stessa comunità israelitica, nel caso nostro contava ancora abbastanza poco, giacché cosa mai significava la parola ebreo in fondo? Che senso potevano avere per noi espressioni quali comunità israelitica o università israelitica, visto che prescindevano completamente dall'esistenza di quell'ulteriore intimità segreta, apprezzabile nel suo valore soltanto da chi ne era partecipe, derivante dal fatto che le nostre due famiglie, non per scelta, ma in virtù di una tradizione più antica di ogni possibile memoria, appartenevano al medesimo rito religioso o meglio alla medesima scuola. Quando ci incontravamo sul portone del tempio, in genere all'imbrunire, dopo i laboriosi convenevoli scambiati nella penombra del portico, finiva quasi sempre che salissimo in gruppo anche le ripide scale che portavano al secondo piano, dove ampia, gremita di popolo misto e che giante di suoni d'organo e di canti come una chiesa è così alta sui tetti che in certe sere di maggio, coi finestroni laterali spalancati dalla parte del sole al tramonto, a un dato punto ci si trovava immersi in una specie di nebbia d'oro, c'era la sinagoga italiana. Ebbene, soltanto noi, ebrei, d'accordo, ma cresciuti nell'osservanza di un medesimo rito, potevamo renderci davvero conto di quel che volesse dire avere il proprio banco di famiglia nella sinagoga italiana, lassù al secondo piano, invece che al primo in quella tedesca, così diversa nella sua severa accolta quasi luterana di facoltose lobby borghesi. E c'era dell'altro, perché anche a dare per risaputa al di fuori dell'ambiente strettamente ebraico, una sinagoga italiana distinta da una tedesca, con quanto di particolare tale distinzione implicava sul piano sociale e sul piano psicologico, chi oltre noi sarebbe stato in grado di fornire precisi ragguagli a quelli di Via Vittoria, tanto per fare un esempio. Con questa frase ci si riferiva di solito ai membri delle quattro o cinque famiglie che avevano il diritto di frequentare la piccola separata sinagoga levantina, detta anche fanese, situata al terzo piano di una vecchia casa d'abitazione di Via Vittoria, ai Dafano di Via Scienze, ai Cohen di Via Gioco del Pallone, ai Levi di Piazza Riostea, ai Levi Minzi di Viale Cavour, e non so a quale altro isolato nucleo familiare, tutta gente in ogni caso un po' strana, tipi sempre un tantino ambigui e sfuggenti, per i quali la religione, che a scuola italiana aveva assunto forme di popolarità e teatralità pressoché cattoliche, con riflessi evidenti anche nei caratteri delle persone per lo più estroversi e ottimisti, molto padani, era rimasta essenzialmente culto da praticare in pochi, in oratori semi-clandestini a cui era opportuno dirigersi di notte, e radendo alla spicciolata i vicoli più oscuri e peggio noti del ghetto. No, no, soltanto noi, nati e cresciuti intramuros, potevamo sapere, comprendere davvero queste cose, sottilissime, irrilevanti, ma non perciò meno reali. Gli altri, tutti gli altri, e in primo luogo i miei molto amati compagni quotidiani di studio e di giochi, inutile pensare di erudirli in una maniera talmente privata. Povere anime, a questo proposito non erano da considerarsi che degli esseri semplici e rozzi, condannati a vita in fondo a irremeabili abissi di ignoranza, ovvero, come diceva perfino mio padre, sogghignando benigno dei negri goim. Dunque, quando capitava, salivamo insieme le scale, insieme facevamo il nostro ingresso in sinagoga. E poiché i nostri banchi erano vicini, prossimi laggiù in fondo al recinto semicircolare delimitato torno-torno da una ringhiera marmorea, al centro del quale sorgeva la tevà o leggio dell'officiante, e tutti e due in ottima vista del monumentale armadio di nero legno scolpito, che custodiva i rotoli della legge, i cosiddetti sefarim, valicavamo insieme anche il sonoro pavimento a losanghe bianche e rosa della grande sala. Madri, mogli, nonne, zie, sorelle, eccetera, si erano separate da noi uomini nel vestibolo, sparite in fila indiana dentro un piccolo uscio a muro, che metteva in uno stambugio, di cui, approfittando di una scaletta a chiocciola, erano salite ancora più su nel matroneo, e fra poco le avremmo riviste occhieggiare dall'alto della loro stia, posta appena sotto il soffitto, attraverso i fori delle grate. Ma anche così, ridotti ai soli maschi, vale a dire io, mio fratello Ernesto, mio padre, il professore Ermanno, Alberto, nonché a volte i due fratelli celibi della signora Olga, l'ingegnere e il dottore Herrera, calati da Venezia per l'occasione, anche così facevamo gruppo abbastanza numeroso. Significativo e importante, comunque, tanto è vero che mai, in qualsiasi momento della funzione fossimo apparsi sulla soglia, ci era dato raggiungere la meta senza suscitare in giro la curiosità più viva. Come ho già detto, i nostri banchi erano vicini, uno dietro l'altro. Noi occupavamo il banco più avanti, in prima fila, e i finzi contini quello immediatamente dietro. Anche volendo, sarebbe stato molto difficile ignorarsi. Per parte mia, attratto dalla diversità nella stessa misura in cui mio padre ne era respinto, stavo sempre attentissimo a qualunque gesto o bisbiglio venisse dal banco posteriore. Non ero mai quieto un momento, sia che chiacchierassi sottovoce con Alberto, il quale aveva due anni più di me, è vero, però doveva ancora entrare di mignon, e non di meno si affrettava subito appena arrivato ad avvolgersi nel grande taled di lana bianca a strisce nere che era appartenuto un tempo al nonno Moisé, sia che il professore Ermanno, sorridendomi gentilmente attraverso le grosse lenti, mi invitasse con un cenno del dito ad osservare le incisioni in rame che illustravano un'antica Bibbia da lui estratta apposta per me dal cassetto, sia che affascinato ascoltassi a bocca aperta i fratelli della signora Olga, l'ingegnere delle ferrovie e il tisiologo, parlottare fra loro mezzo in veneto e mezzo in spagnolo, cosa che se sta meldando su Giulio a Levante ha ide e procura defastare in pie anche il cico e poi smettere d'un tratto e unirsi a voce altissima in ebraico alle litanie del rabbino, per un verso o per l'altro stavo quasi sempre con la testa voltata, in fila nel loro stallo i due finzi contini e i due errera erano lì a poco più di un metro di distanza eppure lontanissimi, inattingibili, come se li proteggesse tutto attorno una parete di cristallo. Fra loro non si assomigliavano, alti, magri, calvi, con le lunghe facce pallide ombrate di barba, vestiti sempre o di blu o di nero e abituati inoltre a mettere nella loro devozione una intensità, un ardore fanatico di cui il cognato e il nipote bastava guardarli, non sarebbero mai stati capaci, i parenti veneziani sembravano appartenere ad una civiltà completamente stranea, ai golf e ai calzettoni color tabacco di Alberto, alle lane inglesi e alle tele gialline da studioso e da nobile di campagna del professore Armanno. E tuttavia, pur così diversi come erano, io li sentivo fra loro profondamente solidali. Che cosa c'era di comune, parevano dirsi tutti e quattro, fra loro e la platea distratta, bisbigliante, italiana, che anche al tempio, dinnanzi all'arca spalancata del Signore, continuava ad occuparsi di tutte le meschinità della vita associata, di affari, di politica, perfino di sport, ma non mai dell'anima e di Dio. Io ero un ragazzetto allora, fra i dieci e i dodici anni. Un'intuizione confusa, certo, ma sostanzialmente esatta, si accompagnava in me al dispetto e all'umiliazione, altrettanto confusi però cocenti, di far parte della platea, della gente volgare da tenere alla larga. E mio padre, di fronte alla parete di vetro, di là dalla quale i finzi contini e gli herrera, gentili, sempre ma distanti, continuavano in fondo a ignorarlo, si comportava in maniera opposta alla mia. Invece di tentare degli approcci, lo vedevo esagerare per reazione, lui laureato in medicina e libero pensatore, lui volontario di guerra, lui fascista con la tessera del 19, lui appassionato di sport, lui ebreo moderno, insomma, la propria sana insofferenza, davanti a qualsiasi troppo pedissequa o smaccata esibizione di fede. Quando lungo i banchi passava la lieta processione dei sefarim, avvolti nelle ricche mantelline di seta ricamata, le corone d'argento di sghimbescio e le campanelline e tintinnanti, i sacri rotoli della Torah sembravano una teoria di lattanti regali, esibiti al popolo a rinforzo di qualche monarchia pericolante. Il dottore e l'ingegnere Herrera erano pronti a sporgersi impetuosamente fuori dal banco, baciando quante più cocche di mantelline potevano con una avidità, una golosità quasi indecenti. Cosa contava che il professore Ermanno, imitato dal figlio, si limitasse a coprirsi gli occhi con un lembo del taled e a bisbigliare a fior di labbra una preghiera. Quante smancerie, quanto altud avrebbe commentato più tardi a tavola mio padre con disgusto, senza che ciò gli impedisse magari subito dopo di tornare una volta di più sull'ereditaria superbia dei finzi contini, sull'assurdo isolamento nel quale vivevano o addirittura sul sotterraneo persistente antisemitismo da aristocratici. Ma per ora, non avendo sotto mano nessun altro su cui sfogarsi, era con me che se la prendeva. Al solito mi ero voltato a guardare. Vuoi farmi il santo piacere di stare composto? Sibilava lui a denti stretti, fissandomi esasperato coi suoi occhi azzurri e collerici. Nemmeno al tempio sai comportarti come si deve. Guarda qui tuo fratello, ha quattro anni meno di te e potrebbe insegnarti l'educazione. Ma non sentivo. Poco dopo ero di nuovo là che davo le spalle al salmodeante dottor Levi, dimentico di ogni divieto. Oramai, se voleva riavermi per qualche minuto in suo dominio fisico, intendiamoci soltanto fisico, a mio padre non restava che attendere la benedizione solenne, quando tutti i figli sarebbero stati raccolti sotto i taletod paterni come sotto altrettante tende. Ed ecco, infine, lo scaccino Carpanetti era già andato in giro con la sua pertica, accendendo ad uno ad uno i trenta candelabri d'argento e di bronzo dorato della sinagoga. La sala sfolgorava di luci. Ecco, trepidamente attesa, la voce del dottor Levi, per solito così incolore, assumere di colpo il tono profetico adatto al momento supremo e finale della Berahà. «Yeravarachà Adonai, Veshimerachà», attaccava solennemente il rabbino curvo, quasi prostrato, sulla Tevà dopo essersi ricoperto la torreggiante berretta bianca col taled. «Su, ragazzi», faceva allora mio padre allegro e sbrigativo schioccando le dita, «venite qua sotto». Vero è che anche in quella circostanza l'evasione era sempre possibile. Il papà aveva un bel pigiare le dure mani sportive sulle nostre collottole, sulla mia in particolare. Sebbene vasto come una tovaglia, il taled del nonno Raffaello, del quale si serviva, era troppo liso e bucherellato per garantirgli la clausura ermetica dei suoi sogni. E infatti, attraverso i buchi e gli strappi prodotti dagli anni nella tela fragile fragile che odorava di vecchio e di rinchiuso, non era difficile, almeno a me, osservare il professore Ermanno, mentre lì accanto le mani imposte sui bruni capelli di Alberto e su quelli fini, biondi, leggeri, di Micol, scesa a precipizio dal matroneo, pronunciava anche lui una dopo l'altra tenendo dietro al dottor Levi le parole dell'Aberaha. Sopra le nostre teste, mio padre, che dell'ebraico non conosceva più di una ventina di vocaboli, i soliti della conversazione familiare e d'altronde non si sarebbe mai piegato, taceva. Immaginavo l'espressione improvvisamente imbarazzata del suo viso, i suoi occhi, tra sardonici e intimiditi, levati verso i modesti stucchi del soffitto o verso il matroneo. Ma intanto, da dove ero, guardavo di sotto in su, con stupore e invidia sempre nuovi, il volto rugoso e arguto del professore Ermanno in quel momento come trasfigurato. Guardavo i suoi occhi, che dietro le lenti avrei detto pieni di lacrime. La sua voce era esile e cantilenante, intonatissima. La sua pronuncia ebraica, raddoppiando di frequente le consonanti e con le z, le s e le h molto più toscane che ferraresi, si sentiva filtrata attraverso la duplice distinzione della cultura e del ceto. Lo guardavo. Sotto di lui, per tutto il tempo che durava la benedizione, Alberto e Micol non smettevano di esplorare anche essi fra gli spiragli della loro tenda, e mi sorridevano e mi ammiccavano, ambedue curiosamente invitanti, specie Micol. Parte prima, capitolo quinto. Una volta, tuttavia, nel giugno del 29, il medesimo giorno in cui nell'atrio del Guarini erano state esposte le votazioni degli esami di licenza ginnasiale, era accaduto qualcosa di molto più diretto e particolare. Agli orali non ero andato granché bene. Nonostante che il professor Meldolesi si fosse adoperato parecchio in mio favore, ottenendo addirittura contro ogni regola di essere lui stesso a interrogarmi, quasi mai ero apparso all'altezza dei numerosi sette e otto che ornavano la mia pagella nelle materie letterarie. Interrogato in latino sulla consecutio temporum, avevo fatto una quantità di pasticci. Molto ostentatamente avevo risposto anche in greco, pece quando mi era stata messa sotto il naso una pagina dell'edizione Teubner della Nabasi, perché ne traducessi qualche riga a prima vista. Più tardi avevo un po' rimediato. In italiano, per esempio, oltre ad essere riuscito ad esporre con discreta disinvoltura il contenuto sia dei promessi sposi, sia delle ricordanze, avevo detto a memoria le prime tre ottave dell'Orlando Furioso, senza inciampare una sola volta. Emel Dolesi pronto a premiarmi alla fine con un bravo, così squillante da fare sorridere l'intera commissione e perfino me. Nel complesso, però, ripeto, nemmeno nel gruppo lettere il mio rendimento era risultato pari alla reputazione di cui godevo, ma il vero fiasco l'avevo combinato in matematica. Fin dall'anno prima, l'algebra non era voluta entrarmi in testa. Di più, calcolando sull'appoggio immancabile che agli scrutini finali avrei avuto dal professor Meldolesi, con la professoressa Fabiani avevo sempre agito abbastanza abilmente. Studiavo il minimo necessario per strappare il 6 e molto spesso neppure quel minimo. Quale importanza poteva avere la matematica per uno che all'università si sarebbe iscritto a lettere. Continuavo a dirmi anche quella mattina mentre risalivo corso Giovecca diretto al Guarini. Tanto in algebra quanto in geometria non avevo quasi aperto bocca, purtroppo. Ma con questo, la povera Fabiani che durante gli ultimi due anni non aveva mai osato darmi meno di sei, in sede di consiglio dei professori non si sarebbe certo azzardata ed evitavo perfino di pronunciarla mentalmente, la parola bocciarmi. Tanto l'idea della bocciatura col conseguente strascico di tediose e avvilenti lezioni private a cui mi sarei dovuto sottoporre a riccione per tutto il corso dell'estate mi sembrava assurda se riferita a me. Io, proprio io che non avevo subito l'umiliazione del rinvio a ottobre neanche una volta e anzi in prima, seconda e terza ginnasio ero stato insignito per profitto e buona condotta dell'ambito titolo di guardia d'onore ai monumenti dei caduti e ai parchi della rimembranza. Io bocciato, ridotto alla mediocrità, costretto a rientrare nella massa più anonima. E il papà? Se per ipotesi la Fabiani mi avesse rimandato a ottobre, insegnava matematica anche al liceo la Fabiani, per tale motivo mi aveva interrogato lei era nel suo diritto, dove l'avrei trovato io di lì a qualche ora il coraggio di tornare a casa, sedermi a tavola davanti al papà e mettermi a mangiare. Forse lui mi avrebbe picchiato e sarebbe stato meglio dopo tutto. Qualsiasi punizione sarebbe stata preferibile al rimprovero che mi fosse venuto dai suoi muti, terribili occhi celesti. Entrai nell'atrio del Guarini. Un gruppo di ragazzi, tra i quali notai subito vari compagni, sostava tranquillo dinnanzi alla tabella delle medie. Appoggiata alla bicicletta al muro, di fianco al portone di ingresso, mi avvicinai tremante. Nessuno aveva mostrato di essersi accorto del mio arrivo. Guardai da dietro una siepe di spalle ostinatamente voltate. La vista mi si annebbiò. Guardai di nuovo e il cinque rosso, unico numero in inchiostro rosso di una lunga filza di numeri in inchiostro nero, mi si impresse nell'anima con la violenza e col bruciore di un marchio infuocato. «Beh, cos'hai?» mi chiese Sergio Pavani, dandomi un colpetto gentile sulla schiena. «Non farei mica una tragedia per un cinque in matematica. Guarda me!» e rise. «Latino e greco!» «Coraggio!» aggiunse Otello Forti. «Ho una materia anche io, inglese!» Lo fissai in ebetito. Eravamo stati compagni di classe e di banco dalla prima elementare, abituati fin da allora a studiare assieme, un giorno a casa dell'uno e un giorno a casa dell'altro, e convinti entrambi della mia superiorità. Non passava anno che io non fossi promosso a giugno, mentre lui, Otello, doveva sempre riparare qualche materia. E adesso, di colpo, sentirmi paragonare ad un Otello Forti e proprio da lui per giunta, trovarmi sbalzato d'un tratto al suo livello. Quello che feci e pensai nelle quattro o cinque ore seguenti, cominciando dall'effetto che ebbe su di me, appena fuori dal Guarini, l'incontro col professor Meldolesi, sorrideva il bravuomo, senza cappello e cravatta, con il colletto della camicia a righe rovesciato indietro sul bavero della giacca, e svelto a darmi conferma della impuntatura della Fabiani nei miei confronti, del suo rifiuto categorico a chiudere un occhio una sola volta di più. Per continuare con la descrizione del lungo, disperato vagabondaggio senza meta, a cui mi abbandonai subito dopo avere ricevuto, dallo stesso professor Meldolesi, un buffetto sulla guancia, a titolo di commiato e di incoraggiamento. Non vale la pena di raccontarlo per esteso. Basti dire che verso le due del pomeriggio vagavo tuttora in bicicletta lungo la mura degli angeli, dalle parti di Corso Ercole I d'Este. A casa non avevo nemmeno telefonato, col volto rigato di lacrime, col cuore traboccante di una immensa pietà per me stesso, pedalavo senza quasi sapere dove mi trovassi e meditando confusi progetti suicidi. Mi fermai sotto un albero, uno di quegli antichi alberi, tigli, olmi, platani, castagni, che di lì ad una dozzina d'anni nel gelido inverno di Stalingrado sarebbero stati sacrificati per farne legna da stufe, ma che nel 29 levavano ancora ben alti, al di sopra dei bastioni cittadini, i loro grandi ombrelli di foglie. In giro, deserto assoluto. Il viottolo di terra battuta, che come un sonnambulo avevo percorso fin lì da Porta San Giovanni, proseguiva serpeggiando tra i tronchi secolari verso Porta San Benedetto e la stazione ferroviaria. Mi sdraiai bocconi nell'erba, accanto alla bicicletta, col viso che mi scottava nascosto fra le braccia. Aria calda e ventilata attorno al corpo disteso, desiderio esclusivo di rimanere il più a lungo possibile così, ad occhi chiusi. Nel coro narcotizzante del licicale, qualche suono non lontano spiccava isolato. Un grido di gallo, uno sbattere di panni prodotto verosimilmente da una lavandaia, attardatasi a fare il bucato nell'acqua verdastra del canale Panfiglio e, infine, vicinissimo, a pochi centimetri dall'orecchio, il ticchettio via via più lento della ruota posteriore della bicicletta, ancora in cerca del punto di immobilità. A casa, ormai, pensavo, avevano di certo già saputo, da Otello Forti magari. Si erano seduti a tavola, poteva darsi, anche se poi, molto presto, avevano dovuto smettere di mangiare, forse stavano cercandomi, forse avevano subito sguinzagliato lo stesso Otello, l'amico buono, l'amico inseparabile, dandogli l'incarico di perlustrare in bicicletta l'intera città, montagnone e mura compresi, sicché non era per niente improbabile che di punto in bianco me lo trovassi davanti con una faccia rattristata di circostanza, però tutto felice lui, me ne sarà accorto al primo sguardo di non essere stato rimandato altro che in inglese. Ma no, forse, sopraffatti dall'angoscia, ad un dato momento i miei genitori avevano deciso di rivolgersi direttamente alla questura. C'era andato il papà a parlare col questore in castello, mi pareva di vederlo, balbettante, invecchiato in modo pauroso, ridotto l'ombra di se stesso, piangeva. Eh, ma se verso luna a ponte lago scuro avesse potuto osservarmi mentre fissavo la corrente del po' dall'alto del ponte di ferro, c'ero rimasto per un bel pezzo a guardare in giù. Quanto? Almeno venti minuti. Allora sì che si sarebbe spaventato. Allora sì che avrebbe capito. Allora sì che... Psst! Mi svegliai di soprassalto. Psst! Alzai lentamente il capo, girandolo a sinistra dalla parte del sole, sbattei le palpebre. Chi mi chiamava? Otello non poteva essere. E allora? Mi trovavo circa a metà di quel tratto delle mura urbane, lungo su per giù tre chilometri, che comincia dal punto dove corso Ercole I d'Este a termine per finire a porta San Benedetto di fronte alla stazione. Il luogo è sempre stato particolarmente solitario. Lo era trent'anni fa e lo è ancora oggi, nonostante che a destra soprattutto, cioè dal lato della zona industriale, siano spuntate dal 45 in poi decine e decine di variopinte casette operaie, a paragone delle quali e delle ciminiere e dei capannoni che fanno loro da sfondo, il bruno cespuglioso, selvaggio sperone semidiroccato del baluardo quattrocentesco appare di giorno in giorno più assurdo. Guardavo, cercavo, socchiudendo gli occhi al riverbero. Ai miei piedi, soltanto adesso me ne rendevo conto, le chiome dei nobili alberi gonfie di luce meridiana come quelle di una foresta tropicale, si stendeva il barchetto del duca, immenso, davvero sterminato, con al centro, mezzo nascosti nel verde, le torricelle e i pinnacoli della magna domus, e delimitato lungo l'intero perimetro da un muro di cinta interrotto un quarto di chilometro più in là per lasciar defluire il canale panfiglio. «Ehi, ma sei proprio anche cieco?» fece una voce allegra di ragazza. Per via dei capelli biondi, di quel biondo particolare striato di ciocche nordiche, da Fie o Cheveau de L'Anne, che non apparteneva che a lei, riconobbi subito Micol Finzicontini. Si affacciava dal muro di cinta come da un davanzale, sporgendone con tutte le spalle e appoggiandovisi a braccia concerte. Sarà stata non più di venticinque metri di distanza, sufficientemente vicina dunque perché riuscissi a vederle gli occhi, che erano chiari, grandi, forse troppo grandi allora, nel piccolo viso magro di bimba, e mi osservava di sotto in su. «Cos'è che fai là sopra? Sono dieci minuti che sto a guardarti. Se dormivi e ti ho svegliato, scusami, e condoglianze!» «Condoglianze? Come? Perché?» borbottai, sentendo che il viso mi si copriva di rossore. Mi ero tirato su. «Che ora è?» chiesi alzando la voce. «Io faccio le tre», disse con una graziosa smorfia delle labbra, e poi «immagino che avrai fame!» Rimasi di stucco. Dunque sapevano anche loro. Per un attimo giunsi a credere che la notizia della mia sparizione l'avessero avuta da mio padre o da mia madre, per telefono, come certo infinita altra gente, ma fu Nicole stessa a rimettermi prontamente in carreggiata. «Stamattina sono andata al Guarini insieme con Alberto. Volevamo vedere i quadri. Ci sei rimasto male?» «E tu sei stata promossa?» «Ancora non si sa. Forse aspettano a mettere fuori i voti che abbiano finito anche tutti gli altri privatisti. Ma perché non scendi giù? Vieni più vicino, dai, così faccio a meno di sgolarmi!» Era la prima volta che mi rivolgeva la parola, la prima anzi che la sentivo parlare, e immediatamente notai quanto la sua pronuncia assomigliasse a quella di Alberto. Parlavano entrambi nello stesso modo, spiccando le sillabe di certi vocaboli di cui essi soli sembravano conoscere il vero senso, il vero peso, e invece scivolando bizzarramente su quelle di altri, che uno avrebbe detto di importanza molto maggiore, mettevano una sorta di puntiglio nell'esprimersi così. Questa particolare, inimitabile, tutta privata deformazione dell'italiano era la loro vera lingua. Le davano perfino un nome, il finzi continico. Lasciandomi scivolare giù per il declivio erboso, mi accostai alla base del muro di cinta. Benché ci fosse ombra, un'ombra che sapeva acutamente di ortiche e di sterco, là sotto faceva più caldo, e adesso lei mi guardava dall'alto, la testa bionda al sole, tranquilla, come se il nostro non fosse stato un incontro casuale, assolutamente fortuito, ma come se a partire magari dalla mia prima infanzia, le volte che ci eravamo dati convegno in quel posto non potessero nemmeno più contarsi. Esageri però, che cosa vuoi che conti avere una materia ad ottobre? Ma mi prendeva in giro, era chiaro, e un poco anche mi disprezzava. Dopotutto era abbastanza normale che un guaio del genere fosse capitato a un tipo come me, venuto al mondo da gente così comune, talmente assimilata a un quasi goi, insomma. Che diritto avevo di far tante storie? Credo che ti circolino per la testa delle strane idee, risposi. Ah sì? Soghignò lei. E allora spiega, prego, come mai oggi non sei andato a casa a mangiare. Chi ve l'ha detto? Mi sfuggì. Sappiamo, sappiamo, abbiamo anche noi i nostri informatori. Era stato Meldolesi, pensai. Non poteva essere stato che lui, infatti non mi sbagliavo. Ma che cosa importava? D'un tratto mi ero accorto che la questione della bocciatura era diventata secondaria, una faccenda bambinesca che si sarebbe sistemata da sé. Come fai, chiesi, a stare lì sopra? Sembri alla finestra? Ho sotto i piedi la mia brava scala a pioli, rispose scandendo le sillabe di mia brava nel suo solito orgoglioso modo. Di là dal muro si levò a questo punto un latrato, greve e corto, un po' rauco. Micol girò il capo, gettando dietro la spalla sinistra, un'occhiata piena di noia e insieme d'affetto. Fece una boccaccia al cane, quindi tornò a guardare dalla mia parte. Uffa, sbuffò calma, è Jor. Di che razza è? È un danese, ha un anno soltanto, ma pesa quasi un quintale. Mi tiene sempre dietro. Io spesso cerco di confondere le mie tracce, ma lui dopo un poco sta pur sicuro che mi ritrova. È terribile, sorrise. Vuoi che ti faccia venire dentro? Aggiunse, tornata già seria. Se vuoi, ti insegno subito come devi fare. Parte prima, capitolo sesto. Quanti anni sono passati da quel remoto pomeriggio di giugno? Più di trenta. Eppure, se chiudo gli occhi, Micol Finzi-Contini sta ancora là, affacciata al muro di cinta del suo giardino, che mi guarda e mi parla. Nel 1929 Micol era poco più che una bambina, una tredicenne magra e bionda, con grandi occhi chiari, magnetici. Io un ragazzetto in calzoni corti, molto borghese e molto vanitoso, che un piccolo inconveniente scolastico bastava a gettare nella disperazione più infantile. Entrambi ci fissavamo. Al di sopra della sua testa il cielo era azzurro e compatto, un caldo cielo già estivo senza la minima nube. Niente avrebbe potuto mutarlo, sembrava, e niente infatti l'ha mutato, almeno nella memoria. Allora vuoi o non vuoi, incalzò Micol, ma non so, cominciai a dire accennando al muro, mi sembra molto alto. Perché non hai visto bene, ribattei impaziente. Guarda là, e là, e là, e puntava il dito per farmi osservare. C'è una quantità di tacche e perfino un chiodo quassù in cima. L'ho piantato io. Sì, gli appigli ci sarebbero per esserci, mormorai incerto, ma... Appigli? Mi interruppe scoppiando a ridere. Io per me le chiamo tacche. Male perché si chiamano appigli. Insistei testardo e acido. Si vede che non sei mai stata in montagna. Fin da bambino ho sempre sofferto di vertigini e, per quanto modesta, la scalata mi impensieriva. Da bambino, quando la mamma, con Ernesto in braccio, Fannino n'era ancora nata, mi conduceva sul montagnone e lei si sedeva nell'erba del vasto piazzale di fronte a via scandiana, dall'alto del quale si poteva scorgere il tetto di casa nostra appena distinguibile. Nel mare di tetti, attorno alla gran mole della chiesa di Santa Maria in Vado, non era senza molto timore, ricordo, che andavo a sporgermi dal parapetto delimitante il piazzale, dalla parte della campagna, e guardavo giù, nel baratro profondo trenta metri. Lungo la parete strapiombante, stava quasi sempre salendo o scendendo qualcuno, contadini, manovali, giovani muratori, ognuno con la bicicletta a tracolla, e vecchi anche, baffuti pescatori di rane e pesci gatto, carichi di canne e di ceste, tutta gente di quacchio, di ponte della gradella, di coccomaro, di coccomarino, di fuoco morto, che avevano fretta e piuttosto che passare da porta San Giorgio o da porta San Giovanni, perché da quel lato i bastioni erano intatti a quell'epoca, senza brecce praticabili per una lunghezza di almeno cinque chilometri, preferivano prendere, come dicevano, la strada della mura. Uscivano di città, in questo caso attraversato il piazzale mi passavano accanto senza guardarmi, scavalcando il parapetto e lasciandosi calare giù fino a poggiare la punta del piede sulla prima sporgenza o rientranza della muraglia decrepita, per poi raggiungere in pochi momenti il prato sottostante. Arrivavano dalla campagna e allora venivano su con certi occhi sbarrati, che a me sembravano fissi nei miei, affioranti timidamente dall'orlo del parapetto, ma invece mi sbagliavo, si capisce, non erano attenti che a scegliere l'appiglio migliore. Sempre, ad ogni modo, durante tutto il tempo che stavano così sospesi sopra l'abisso, a coppie in genere uno dietro l'altro, li udivo chiacchierare tranquillamente in dialetto, né più né meno che se si fossero trovati a camminare lungo un viottolo in mezzo ai campi. Come erano calmi, forti e coraggiosi, mi dicevo. Dopo essersi avvicinati fino a poche decine di centimetri dal mio viso, tanto che spesso, oltre a specchiarmi nelle loro sclerotiche, ero investito dal puzzo di vino dei loro fiati, afferravano con le grosse dita callose lo spigolo interno del parapetto, emergevano dal vuoto con tutto il corpo, e opla, eccoli al sicuro. Io non sarei mai stato capace di fare altrettanto, mi ripetevo ogni volta, guardandoli allontanarsi, pieno di ammirazione ma anche di ribrezzo, mai e poi mai. Ebbene, qualcosa di simile provavo anche ad esso, dinnanzi al muro in cima al quale Micol Finzi-Contini mi invitava a salire. La parete non appariva certo così alta come quella dei bastioni del montagnone, tuttavia era più liscia, assai meno corrosa dagli anni e dalle intemperie. E se arrampicandomi lassù, pensavo, gli occhi fissi alle tacche, appena segnate che Micol mi aveva indicato, mi fosse venuto un capogiro e fossi precipitato, potevo benissimo ammazzarmi lo stesso. Comunque non era tanto per questo motivo che ancora esitavo. A trattenermi era una ripugnanza diversa da quella puramente fisica delle vertigini, analoga ma diversa e più forte. Per un attimo giunsi a rimpiangere la mia disperazione di poco prima, il mio sciocco puerile pianto di ragazzo bocciato. E poi non capisco per quale ragione, continuai, dovrei mettermi a fare dell'alpinismo proprio qui. Se debbo entrare in casa vostra, grazie mille, molto volentieri, però francamente mi sembra di gran lunga più comodo passare di là. E così dicendo, alzavo il braccio in direzione di corso a Ercole I d'Este, dal portone d'ingresso, che cosa ci vuole? Prendo la bicicletta e in un momento faccio il giro. Mi accorsi subito che la proposta non le andava. Ma no, no, disse deformando il viso in una espressione di intenso fastidio. Se passi di là ti vede per forza Perotti e allora addio è finita, non c'è più nessun gusto. Perotti chi è? Il portinaio, sai, forse l'hai già notato, quello che ci fa anche da cocchiere, da chauffeur. Se ti vede e non può non vederti perché, a parte le volte che va fuori con la carrozza o con la macchina, è sempre là a fare la guardia, il maledetto. Dopo bisogna assolutamente che io ti porti anche in casa e dimmi tu se ti pare. Mi guardava diritto negli occhi. Seria ora, sebbene calmissima. Va bene, risposi voltando il capo e accennando col mento all'argine. Ma la bicicletta dov'è che la lascio? Non posso mica lasciarla là abbandonata. È nuova, una volsit. Col fanalino elettrico, la borsetta per i ferri, la pompa, figurati se mi faccio rubare anche la bicicletta. E non aggiunsi altro, ripreso di colpo dall'angoscia dell'inevitabile incontro con mio padre. Quella sera stessa, al più tardi, sarei dovuto tornare a casa. Non avevo altra scelta. Girai di nuovo gli occhi verso un micol. Mentre parlavo si era messa a sedere sul muro, volgendomi la schiena, e adesso alzava decisa una gamba e si poneva a cavalcioni. Che cosa stai combinando? Domandai, sorpreso. Mi è venuta un'idea per la bicicletta e intanto ti mostro i punti dove è meglio mettere i piedi. Sta bene attento a dove li metto io, guarda. Volteggiò molto disinvolta lassù in cima, quindi, afferratasi al grosso chiodo rugginoso, che mi aveva indicato poco prima, cominciò a scendere. Veniva giù ad agio, ma sicura, cercando gli appoggi con le punte delle scarpette da tennis, ora con una, ora con l'altra, e sempre trovandoli senza troppa fatica. Scendeva bene, tuttavia, prima di toccare terra, le mancò un appoggio e scivolò. Cadde in piedi, ma si era fatta male alle dita di una mano. Inoltre, strusciando contro il muro, il vestitino di tela rosa da mare, le si era sdrucito leggermente sotto una scella. Che stupida, brontolò portando la mano alla bocca e soffiandoci sopra. È la prima volta che mi succede. Si era anche sbucciata un ginocchio, tirò su un lembo del vestito fino a scoprire la coscia, stranamente bianca e forte, già da donna, e si chinò ad esaminare l'abrasione. Due lunghe ciocche bionde, di quelle più chiare, sfuggite al cerchietto di cui si serviva per tenere a posto i capelli, ricaddero in giù, a nascondere la fronte e gli occhi. Che stupida, ripeté. Ci vuole dell'alcol, dissi io meccanicamente, senza avvicinarmi, nel tono un po' lamentoso che adoperavamo tutti, in famiglia, in circostanze del genere. Ma che alcol! Leccò rapida la ferita, una specie di piccolo bacio affettuoso, e subito si drizzò. Vieni, disse tutta rossa e scarmigliata. Si volse e prese ad arrampicarsi di traverso lungo la proda assolata dell'argine. Si aiutava con la mano destra, afferrandosi ai ciuffi dell'erba. Intanto, la sinistra levata all'altezza del capo veniva togliendosi e rimettendosi il cerchietto ferma capelli. Ripeté la manovra più volte, svelta come se si pettinasse. Vedi quel buco là? Mi disse poi, non appena fumo arrivati in cima. La bicicletta puoi senz'altro nascondercela dentro. Mi indicava, ad una cinquantina di metri di distanza, una di quelle piccole, erbose, montagnole coniche, non più alte di due metri e con l'apertura d'ingresso quasi sempre interrata, nelle quali è abbastanza frequente imbattersi facendo il giro delle mura di Ferrara. A vederle assomigliano un po' ai montarozzi etruschi della campagna romana. In scala molto minore, si intende, se non che la camera sotterranea, spesso vastissima, a cui qualche duna di esse dà ancora adito, non ha mai servito da casa per nessun morto. Gli antichi difensori delle mura vi riponevano armi, colubrine, archibugi, polvere da sparo, eccetera. E forse anche quelle strane palle da cannone in marmopregiato, che nel Quattrocento e nel Cinquecento avevano reso così temuta in Europa l'artiglieria ferrarese, e delle quali si può vedere tuttora qualche esemplare in castello, messo là come ornamento del cortile centrale e delle terrazze. A chi vuoi che venga in mente che ci sia una volsit nuova là sotto? Bisognerebbe proprio saperlo. Ci sei mai stato? Scossi il capo. No, io sì, una infinità di volte. È magnifico. Si mosse decisa, ed io, raccolta la volsit da terra, le tenni dietro in silenzio. La raggiunsi sulla soglia del pertugio. Era una sorta di fessura verticale, tagliata al vivo nella coltre d'erba che rivestiva compatta il monticello, così stretta da non consentire il passaggio a più di una persona per volta. Immediatamente di là, dalla soglia, cominciava la discesa, e se ne vedeva per otto, dieci metri, non di più. Oltre non c'erano che tenebre, come se il cunicolo andasse a finire contro una tenda nera. Si sporse a guardare, poi, d'un tratto, si girò. Vai giù tu, bisbigliò, e sorrideva, debolmente imbarazzata. Preferisco aspettarti qua sopra. Si tirò da parte, congiungendo le mani dietro la schiena e addossandosi alla parete d'erba di fianco all'ingresso. Non ti farà mica impressione? Chiese sempre sottovoce. No, no, mentì, e mi chinai per sollevare la bicicletta e mettermela in spalla. Senza aggiungere altro, le passai davanti, inoltrandomi nel cunicolo. Dovevo procedere ad agio, anche per via della bicicletta il cui pedale di destra non faceva che urtare nella parete, e da principio, per tre o quattro metri almeno, fui come cieco, non vedevo nulla, assolutamente. Ma ad una decina di metri dalla bocca d'ingresso, sta attento, gridò a questo punto la voce già lontana di Micol, alle mie spalle, bada che ci sono degli scalini. Cominciai a distinguere qualcosa. Il cunicolo finiva poco più avanti, ce n'era per qualche altro metro di discesa soltanto, ed era appunto di lì, a partire da una specie di pianerottolo attorno al quale, indovinavo già prima di esserci, uno spazio totalmente diverso, che avevano inizio gli scalini preannunciati da Micol. Raggiunto che ebbi il pianerottolo, sostai un momento. All'infantile paura del buio e dell'ignoto che avevo provato nell'istante in cui mi ero separato da Micol, si era venuto sostituendo in me, a mano a mano che mi inoltravo nel budello sotterraneo, un senso non meno infantile di sollievo. Come se, essendomi sottratto in tempo alla compagnia di Micol, fossi scappato ad un gran pericolo, al pericolo maggiore al quale un ragazzo della mia età, un ragazzo della tua età, era una delle espressioni favorite di mio padre, potesse andare incontro. Eh sì, pensavo, stasera rincasando, il papà mi avrebbe magari picchiato, però io le sue botte potevo ormai affrontarle tranquillamente. Una materia a ottobre. Aveva ragione Micol di riderci su. Che cos'era una materia a ottobre a paragone del resto? E tremavo che laggiù nel buio sarebbe potuto succedere tra noi. Forse avrei trovato il coraggio di darle un bacio a Micol, un bacio sulle labbra. Ma poi? Che cosa sarebbe accaduto poi? Nei film che avevo visto e nei romanzi. I baci avevano voglia ad essere lunghi e appassionati. In realtà, a confronto del resto, i baci non rappresentavano che un attimo in fondo trascurabile. Se dopo che le labbra si erano congiunte e le bocche quasi compenetrate una dentro l'altra, il filo del racconto non poteva il più delle volte essere ripreso prima del mattino successivo o addirittura prima che fossero trascorsi vari giorni. Se io e Micol fossimo arrivati a baciarci in quella maniera e l'oscurità avrebbe certo favorito la cosa, dopo il bacio il tempo sarebbe continuato a scorrere tranquillo, senza che nessun intervento estraneo e provvidenziale potesse aiutarci a raggiungere la mattinata seguente. Che cosa avrei dovuto fare, in tal caso, per riempire i minuti e le ore? Oh, ma questo non era accaduto fortunatamente. Meno male che mi ero salvato. Cominciai a scendere gli scalini. Filtrando attraverso il cunicolo veniva da dietro qualche debole raggio di luce. Adesso me ne accorgevo. E un po' con la vista, un po' con l'udito, bastava che urtassi con la bicicletta nella parete o un tallone mi slittasse giù da un gradino e subito l'eco in gigantiva e moltiplicava il suono, misurando spazi e distanze. Ben presto mi resi conto della vastità dell'ambiente. Doveva trattarsi di una sala di una quarantina di metri di diametro, rotonda, con la volta a cupola alta almeno altrettanto. Chissà, forse comunicava mediante un sistema di corridoi segreti, con altre sale sotterranee dello stesso tipo, annidanti sia decine nel corpo dei bastioni. Niente di più facile. Il fondo della sala era di terra battuta, liscio, compatto, umido. Mentre seguivo a tentoni la curva della parete, inciampai in un mattone pestai della paglia. Infine mi sedetti, restando con una mano afferrata al cerchio della bicicletta che avevo appoggiato al muro e con un braccio attorno alle ginocchia. Rompeva il silenzio soltanto qualche fruscio, qualche squittio, topi probabilmente, pipistrelli. E se viceversa fosse accaduto, pensavo, sarebbe stato davvero così terribile se fosse accaduto? Quasi di sicuro non sarei tornato a casa e i miei genitori e Otello Forti e Sergio Pavani e tutti gli altri, questura compresa, avrebbero avuto un bel cercarmi. Nei primi giorni si sarebbero affannati a frugare da ogni parte. Ne avrebbero parlato anche i giornali, tirando fuori le solite ipotesi. Rapimento, disgrazia, suicidio, espatrio clandestino, eccetera. A poco a poco, tuttavia, le acque si sarebbero calmate. I miei genitori si sarebbero dati pace. In fondo restavano loro Ernesto e Fanny. Le ricerche sarebbero state abbandonate. E a pagare, alla fine, sarebbe stata soprattutto lei, quella stupida pinzocchera della Fabiani, la quale sarebbe stata trasferita per punizione ad altra sede. Dove? In Sicilia o in Sardegna, naturalmente. E le stava bene. Così avrebbe imparato a sue spese ad essere meno perfida e carogna. Quanto a me, visto che gli altri si davano pace, me la sarei data anch'io. Potevo contare su Nicole, fuori, ci avrebbe pensato lei a rifornirmi di cibo e di tutto quanto avessi bisogno. E sarebbe venuta da me ogni giorno, scavalcando il muro di cinta del suo giardino, d'estate come d'inverno. E ogni giorno ci saremmo baciati, al buio, perché io ero il suo uomo e lei la mia donna. Ma poi non era mica detto che non potessi uscire all'aperto mai più. Durante il giorno dormivo, si capisce, interrompendo il sonno soltanto quando sentivo sfiorarmi le labbra dalle labbra di Nicole e più tardi riaddormentandomi con lei fra le braccia. Di notte, tuttavia, di notte, potevo benissimo fare delle lunghe sortite, specie se sceglievo le ore dopo l'una, dopo le due, quando tutti sono a dormire e per le vie della città non è rimasto in pratica nessuno. Strano e terribile, ma dopo tutto anche divertente, passare da via scandiana, rivedere la nostra casa, la finestra della mia camera da letto, adattata ormai a salotto, scorgere di lontano, nascosto nell'ombra, mio padre che torna proprio adesso dal circolo dei negozianti e non gli passa nemmeno per la testa che io sono vivo e sto osservandolo. Di fatti tira fuori di tasca la chiave, apre, entra e quindi, tranquillo proprio come se io, suo figlio maggiore, non sia mai esistito, richiude il portone d'un colpo solo. E la mamma? Non potevo tentare un giorno l'altro di far sapere almeno a lei per tramite di Nicole, magari, che non ero morto. E rivederla anche, prima che, stanco della mia vita sotterranea, me ne andassi via da Ferrara e sparissi definitivamente. Perché no? Sicuro che lo potevo. Non so quanto rimasi, forse dieci minuti, forse meno. Ricordo con precisione che, mentre risalivo gli scalini e infilavo il cunicolo, alleggerito dal peso della bicicletta, andavo svelto ora, continuavo a pensare, fantasticare. E la mamma? Mi chiedevo, si sarebbe scordata anche lei di me, come tutti? Alla fine mi ritrovai all'aperto e Nicole non stava più ad aspettarmi dove l'avevo lasciata poco prima, bensì, come vidi quasi subito facendomi schermo con la mano dalla luce del sole, di nuovo laggiù, seduta a cavalcioni del muro di cinta, del barchetto del duca. Appariva impegnata a discutere e parlare con qualcuno dall'altra parte del muro, il cocchiere Perotti probabilmente, o addirittura il professore Ermanno in persona. Era chiaro, avendo notato la scala appoggiata al muro si erano subito resi conto della sua piccola evasione. Adesso la invitavano a scendere e lei non si decideva ad obbedire. A un certo punto si voltò e mi scorse in cima all'argine. Allora gonfiò le guance come a dire, uffa, finalmente! E il suo ultimo sguardo, prima che scomparisse di là dal muro, uno sguardo accompagnato da un amicco sorridente, proprio come quando al tempio mi spiava da sotto il taled paterno, era stato per me. Parte seconda. Capitolo primo. La volta che mi riuscì di passarci davvero di là dal muro di cinta del barchetto del duca e di spingermi fra gli alberi e le radure della gran selva privata, fino a raggiungere la magna domus e il campo di tennis, fu qualcosa come una decina d'anni più tardi. Si era nel 38, a circa due mesi da quando erano state promulgate le leggi razziali. Ricordo bene, un pomeriggio, verso la fine di ottobre, pochi minuti dopo esserci alzati da tavola, avevo ricevuto una telefonata di Alberto Finzi-Contini. Era vero o no, mi aveva chiesto subito, trascurando qualsiasi preambolo, notare che non avevamo avuto occasione di scambiare una sola parola da oltre cinque anni. Era vero o no che io e tutti gli altri, con lettere firmate dal vicepresidente e segretario del circolo del tennis Eleonora d'Este, marchese Barbicinti, eravamo stati dimessi in blocco dal club, cacciati via, insomma. Smentì in tono reciso, non era vero, non avevo ricevuto nessuna lettera del genere, almeno io. Ma lui immediatamente, come se ritenesse la mia smentita priva di valore o come se addirittura non fosse stato ad ascoltare, a propormi da andare senz'altro da loro, a giocare a casa loro. Se mi accontentavo di un campo in terra battuta bianca, continuò, con scarsi outs, se soprattutto, dato che io giocavo di sicuro molto meglio, mi fossi degnato di fare quattro palle con lui e con Nicole, entrambi loro ne sarebbero stati ben lieti e onorati. E tutti i pomeriggi erano buoni, se la faccenda mi interessava, aveva aggiunto. Oggi, domani, dopodomani, potevo andare quando volevo, portando con me chi mi pareva, e anche il sabato, si capisce. A parte il fatto che lui si sarebbe trattenuto a Ferrara un altro mesetto, almeno, già che i corsi al Politecnico di Milano non sarebbero cominciati prima del 20 novembre, Nicole se la prendeva sempre più calma e quest'anno, con la storia che era fuori corso e non aveva bisogno di stare lì a mendicare firme chissà se H. Foscari ci avrebbe mai messo piede, non vedevo che splendide giornate, finché il tempo resisteva, sarebbe stato un vero delitto non approfittarne. Pronunciò queste ultime parole con minore convinzione. Pareva che d'un tratto fosse stato sfiorato da un pensiero poco lieto, oppure che un repentino, quanto immotivato senso di noia, gli facesse desiderare che io non andassi, non tenessi conto del suo invito. Ringraziai senza promettere nulla di preciso. Perché quella telefonata? Mi chiedevo non senza stupore, riagganciando. In fondo, da quando lui e la sorella erano stati mandati a studiare fuori di Ferrara, Alberto nel 33 e Nicole nel 34, intorno agli stessi anni in cui il professore Ermanno aveva ottenuto dalla comunità il permesso di ripristinare per uso della famiglia e degli eventuali interessati l'ex sinagoga spagnola incorporata nello stabile del tempio di via Mazzini, sicché il banco dietro il nostro, a scuola italiana, dall'ora in poi era rimasto sempre vuoto. In fondo non c'eravamo più visti che rarissime volte e quelle poche di sfuggita e di lontano. Durante tutto quel tempo eravamo diventati a tal punto estranei, insomma, che in una mattina del 1935 alla stazione di Bologna, facevo già il secondo anno di lettere e andavo su e giù col treno, si può dire ogni giorno, essendo stato violentemente urtato lungo la banchina di fianco al primo binario da un giovanotto alto, bruno, pallido, con un plaid sotto il braccio e con un facchino carico di valigie alle calcagna, il quale si dirigeva a gran passi verso il rapido di Milano, in procinto di partire. Sul momento non avevo affatto riconosciuto nel tipo Alberto Finzi Contini. Raggiunta la coda del treno si era voltato a sollecitare il facchino, sparendo quindi dentro il vagone. Quella volta là, continuavo a pensare, non aveva nemmeno sentito il bisogno di salutarmi. Quando mi ero girato per protestare dell'urtone mi aveva rivolto un'occhiata distratta e adesso, al contrario, perché mai tanta insinuante cortesia? Chi era? domandò mio padre non appena fui rientrato in tinello. Nella stanza non era rimasto che lui. Sedeva in poltrona accanto al mobiletto della radio, nella abituale ansiosa attesa del notiziario delle due. Alberto Finzi Contini. Chi? La ragazzo? Che degnazione! E cosa vuole? Mi scrutava coi suoi occhi azzurri, smarriti che da molto tempo avevano perduto la speranza di impormi qualcosa, di riuscire ad indovinare quello che mi passasse per la testa. Lo sapeva bene, mi diceva con gli occhi, che le sue domande mi infastidivano, che la sua continua pretesa di ingerirsi nella mia vita era indiscreta, ingiustificata. Ma santo Dio non era mio padre e non vedevo come fosse invecchiato in quell'ultimo anno. Con la mamma e con Fanny non era il caso che si confidasse, erano donne. Con Ernesto nemmeno, troppo Putin, con chi doveva parlare allora. Possibile che non capissi che era proprio di me che lui aveva bisogno. Gli riferì a denti stretti di che si trattava. E tu ci vai? Non mi diede il tempo di rispondergli. Di seguito, col calore di cui lo vedevo animarsi ogni volta che gli si offriva la possibilità di trascinarmi in una conversazione qualsiasi, meglio se d'argomento politico, si era già buttato a capofitto a fare il punto della situazione. Purtroppo era vero, aveva cominciato a ricapitolare instancabile. Lo scorso 22 settembre, dopo il primo annuncio ufficiale del 9, tutti i giornali avevano pubblicato quella tale circolare aggiuntiva del segretario del partito, che parlava di varie misure pratiche, di cui le federazioni provinciali avrebbero dovuto curare l'immediata applicazione nei nostri riguardi. In futuro, fermi restando il divieto dei matrimoni misti, l'esclusione di ogni giovane riconosciuto come appartenente alla razza ebraica da tutte le scuole statali di qualsivoglia ordine e grado, nonché la dispensa per gli stessi dall'obbligo altamente onorifico del servizio militare, noi giudei non avremmo potuto inserire necrologi nei quotidiani, figurare nel libro dei telefoni, tenere domestiche di razza ariana, frequentare circoli ricreativi di nessun genere. Eppure, nonostante ciò, spero che tu non voglia ripetermi la solita storia, lo interruppi a questo punto, scuotendo il capo. Quale storia? Che Mussolini sia più buono di Hitler. Ho capito, ho capito, fece lui. Però devi ammetterlo, Hitler è un pazzo sanguinario, mentre Mussolini sarà quello che sarà, machiavellico e volta gabbana finché vuoi, ma... Di nuovo lo interruppi. Era o non era d'accordo? Domandai guardandolo dritto in faccia con la tesi del saggio di Leone Trotsky che gli avevo passato qualche giorno prima. Mi riferivo ad un articolo pubblicato su un vecchio numero della Nouvelle Revue Française, rivista di cui custodivo gelosamente in camera da letto diverse annate complete. Era successo questo, non rammento per quale motivo mi era capitato di trattare mio padre con sgarberia. Lui si era offeso, aveva messo su broncio, di modo che io, desideroso di ristabilire rapporti normali, a un certo punto non avevo trovato di meglio che renderlo partecipe della più recente delle mie letture. Lusingato dal segno di stima, mio padre non si era fatto pregare, aveva subito letto, anzi divorato l'articolo, sottolineando con l'apis moltissime righe e coprendo i margini delle pagine di fitte note. In sostanza, e me l'aveva dichiarato esplicitamente, lo scritto di quella buona lana dell'antico amicone di Lenin, era stato anche per lui un'autentica rivelazione. «Ma certo che sono d'accordo», esclamò, contento di vedermi disposto ad avviare una discussione e insieme sconcertato, «non c'è dubbio, Trotsky è un magnifico polemista, che vivacità, che lingua, capacissimo di avere steso l'articolo direttamente in francese, già, e sorrise con orgoglio. Gli ebrei russi e polacchi saranno magari poco simpatici, però hanno sempre avuto un vero genio per le lingue, ce l'hanno nel sangue. Lascia stare la lingua e badiamo i concetti», tagliai corto con una punta di accredine professorale, di cui subito mi pentì. L'articolo parlava chiaro, seguitai più pacatamente. In fase di espansione imperialistica, il capitalismo non può che mostrarsi intollerante nei confronti di tutte le minoranze nazionali e degli ebrei in particolare, che sono la minoranza per antonomasia. Ora, al lume di questa teoria generale, il saggio di Trotsky era del 31, non bisogna scordarsene, l'anno cioè in cui era cominciata la vera ascesa di Hitler, che cosa importava che Mussolini come persona fosse meglio di Hitler? E poi, era davvero meglio Mussolini anche come persona. «Ho capito, ho capito», continuava a ripetere sommessamente mio padre, mentre parlavo. Stava con le palpebre abbassate, il viso contratto in una smorfia di dolorosa sopportazione. Infine, quando fu ben certo che non avessi altro da aggiungere, mi posò una mano sopra un ginocchio. Aveva capito, ripeté ancora una volta riaprendo ad agio le palpebre, comunque lo lasciassi dire. «Secondo lui, io vedevo troppo nero, ero troppo catastrofico. Perché mai non riconoscevo che dopo il comunicato del 9 settembre e perfino dopo la circolare aggiuntiva del 22, le cose, almeno a Ferrara, erano andate avanti quasi come prima. Verissimo, ammise sorridendo con malinconia, durante quel mese fra i 750 membri della comunità non c'erano stati decessi di tale importanza che fosse valsa la pena di darne notizia sul Padano. Non erano morte che due vecchiette dell'ospizio di Via Vittoria, salvo errore. Una Saralvo e una Rietti, e neppure Ferrarese, quest'ultima, ma proveniente da un paese del Mantovano, Sabbioneta, Viadana, Pomponesco o qualcosa di simile. Però siamo giusti. Il libro dei telefoni non era stato ritirato per essere sostituito da una ristampa purgata. Non c'era ancora stata avvertà, cameriera, cuoca, baglia o vecchia governante a servizio presso qualcuna delle nostre famiglie, la quale, scoprendosi improvvisamente una coscienza razziale, avesse davvero pensato a far fagotto. Il circolo dei negozianti dove da dieci anni la carica di vicepresidente era ricoperta dall'avvocato Lattes e che lui stesso, come pur dovevo sapere, continuava a frequentare indisturbato quasi ogni giorno, non aveva tutt'oggi preteso dimissioni di sorta. E Bruno Lattes, il figlio di Leone Lattes, forse che era stato espulso dall'Eleonora d'Este, per caso? Senza darmi il più piccolo pensiero di mio fratello Ernesto, il quale, poverino, stava sempre lì a guardarmi a bocca aperta, a imitarmi come se fossi chissà che gran ha-ham, io avevo smesso d'andarci al tennis e facevo male, glielo lasciassi dire, facevo molto male a chiudermi, a segregarmi, a non vedere più nessuno, per poi, con la scusa dell'università e dell'abbonamento ferroviario, svignarmela di continuo a Bologna, neanche con Nino Bottecchiari, Sergio Pavani e Otello Forti fino all'anno scorso, miei amici inseparabili, neanche con quelli volevo più stare qua, a Ferrara. E sì che loro, una volta uno, una volta l'altro, si poteva dire che non lasciassero passare mese senza telefonarmi, poveri ragazzi. Guardassi invece il giovane Lattes, per favore. A dar retta al padano, non soltanto lui aveva potuto partecipare regolarmente al torneo sociale, ma nel doppio misto, giocando in coppia con quella bella ragazza dell'Adriana Trentini, la figlia dell'ingegnere capo della provincia. Stava andando benissimo. Avevano passato tre turni e ormai si preparavano a fare la semifinale. Ah no, tutto poteva dirsi del buon Barbicinti, e cioè che tenesse troppo ai propri modesti quarti di nobiltà e troppo poco alla grammatica degli articoli di propaganda tennistica che il federale gli faceva scrivere ogni tanto per il padano. Ma che fosse un galantuomo, niente affatto ostile agli ebrei, assai blandamente fascista, e dicendo assai blandamente fascista, la voce di mio padre ebbe un tremito, un piccolo tremito di timidezza. Su questo non c'era da dubitare né da discutere. Quanto poi all'invito di Alberto e al comportamento dei finzi contini in generale, cos'era adesso di punto e in bianco tutto questo loro agitarsi, tutto questo loro quasi spasmodico bisogno di contatti. Era già stato abbastanza curioso quello che era successo la settimana scorsa al Tempio, per Rosh Hashanah. Io non avevo voluto venirci, al solito, e una volta di più avevo fatto male. Sì, era già stato abbastanza curioso, proprio al culmine della funzione e coi banchi quasi tutti già presi, vedere a un dato momento Ermanno Finzi Contini, la moglie e perfino la suocera, seguiti dai due figlioli e dagli inevitabili zii Herrera di Venezia, l'intera tribù insomma, senza nessuna distinzione fra maschi e femmine, fare il loro solennere ingresso a scuola italiana, dopo ben cinque anni di sdegnoso isolamento in quella spagnola e con certe facce poi, soddisfatte, benigne, né più né meno che si avessero inteso con la loro presenza premiare e perdonare mica solo gli astanti, ma la comunità tutta quanta. Questo comunque non era bastato, evidentemente. Adesso arrivavano al colmo di invitare gente a casa, al barchetto del Duca, figuriamoci, dove fin dall'epoca di Josette Arthom nessun concittadino e forestiero aveva più messo piede se non in occasioni di stretta emergenza. E volevo saperlo perché? Ma perché erano contenti di quello che stava capitando, perché a loro, Halti, come erano sempre stati, contrari al fascismo va bene, ma soprattutto Halti, le leggi razziali facevano in fondo piacere. E almeno fossero stati dei buoni sionisti allora. Dato che qua in Italia e a Ferrara ci si erano sempre trovati talmente a disagio, talmente in prestito, almeno avessero approfittato della situazione per trasferirsi una buona volta in Erez. E invece no. Più che tirar fuori ogni tanto un po' di soldi per Erez, niente di straordinario in ogni caso, di più non avevano mai voluto fare. Loro, le somme vere, avevano sempre preferito spenderle in aristocratiche futilità, come quando nel 33 per trovare un Nehal e un parochet degni di figurare nella loro personale sinagoga, autentici arredi e sefarditi per carità, e che non fossero portoghesi o catalani o provenzali bensì spagnoli ed in misura adatta. Si erano spinti in macchina con dietro un Carnera, niente meno che a Cherasco, in provincia di Cuneo, un paese che fino al 10 o giù di lì era stato sede di una piccola comunità ormai estinta, e dove soltanto il cimitero era rimasto funzionante per via che alcune famiglie di Torino, originarie del luogo, De Benedetti, Momigliano, Terracini, eccetera, continuavano a seppellirci i loro morti. Anche Josette Arthom, la nonna di Alberto e di Micol, ai suoi tempi importava ininterrottamente palme ed eucalipti dall'orto botanico di Roma, quello ai piedi del genicolo, e per questo, allo scopo che i carri ci passassero con tutta comodità, ma anche per ragioni di prestigio, neppure il caso di dirlo, aveva imposto al marito, quel povero Menotti, di far allargare almeno del doppio il già grande portone di casa prospicente su corso Ercole I d'Este. La verità è che a furia di far collezioni di cose, di piante, di tutto. Si finisce a poco a poco col voler farle anche con le persone. Eh, ma se loro, i finzi contini, rimpiangevano il ghetto, era nel ghetto, chiaramente, che sognavano di venire rinchiusi tutti quanti, magari disposti, in vista di questo bell'ideale, a lottizzare il barchetto del duca, per farne una specie di kibbutz sottoposto al loro alto patronato, liberissimi, facessero pure. Lui, ad ogni buon conto, avrebbe sempre preferito la Palestina, e meglio ancora della Palestina, l'Alaska, la Terra del Fuoco o il Madagascar. Era un martedì. Non saprei dire come mai, di lì a pochi giorni, il sabato di quella stessa settimana mi risolvesse a fare proprio il contrario di ciò che mio padre desiderava. Escluderei che centrasse il solito meccanismo di contraddizione e disubbidienza tipico dei figli, a invogliarmi d'un tratto a tirare fuori la racchetta e i vestiti da tennis che riposavano in un cassetto da più di un anno. Forse non era stata che la giornata luminosa, l'aria leggera e carezzevole di un primo pomeriggio autunnale, straordinariamente soleggiato. Ma nel frattempo erano accadute varie cose. Prima di tutto, credo a due giorni di distanza dalla telefonata di Alberto, dunque il giovedì, la lettera che accoglieva le mie dimissioni da socio del circolo del tennis Eleonora d'Este, mi era effettivamente pervenuta. Scritta a macchina, ma con in calce tanto di firma del nobilom marchese Barbicinti, la raccomandata espresso non indugiava in considerazioni personali e particolari. In poche righe secche secche, goffamente echeggianti lo stile burocratico, andava dritta allo scopo, dichiarando senz'altro inamissibile sicc, una ulteriore frequentazione del circolo da parte della mia signoria illustrissima. Poteva mai esimersi il marchese Barbicinti dal condire ogni sua prosa di qualche svista ortografica? Si vede di no, ma prenderne nota e riderne questa volta era stato un po' più difficile delle precedenti. In secondo luogo c'era stata per me l'indomani una nuova chiamata al telefono proveniente dalla Magna Domus, e non più da parte di Alberto, questa, bensì di Micol. Ne era venuta fuori una lunga, anzi lunghissima conversazione, il cui tono si era mantenuto per merito soprattutto di Micol, sul filo di una normale, ironica e divagante chiacchierata di due stagionati studenti universitari, fra i quali da ragazzi può esserci anche stato un tantino di tenerezza, ma che ora, dopo qualcosa come dieci anni, non hanno altra mira all'infuori di quella di effettuare una onesta rimpatriata. Quanto sarà che non ci vediamo? Cinque anni è del poco. E adesso come sei? Brutta. Una zitella col naso rosso. E tu? A proposito, ho letto, ho letto. Letto cosa? Ma sì, un due anni fa, sul Padano, direi in terza pagina, che hai partecipato ai lettoriali della cultura e dell'arte a Venezia. Ci facciamo onore, eh? Complimenti. Già, ma tu in italiano sei sempre stato molto bravo, fin dal ginnasio. Meldolesi era veramente incantato di certi tuoi temi in classe. Credo che ce ne abbia perfino portato da leggere qualcuno. C'è poco da prendere in giro. E tu che cosa fai? Niente. Avrei dovuto laurearmi in inglese a Caffoscari lo scorso giugno. E invece, ma che? Speriamo di farcela quest'anno, pigrizia permettendo. Credi che i fuoricorso li lasceranno finire ugualmente? Mi rendo conto di darti un dolore, ma non ne ho il minimo dubbio. Hai già preso la tesi. Per prenderla l'ho presa su Emily Dickinson. Sai, quella poetessa americana dell'Ottocento. Quella specie di donna terribile. Ma come si fa? Dovrei stare alle costole del professore, passare a Venezia degli interi quindici giorni, mentre a me la perla della laguna dopo un po'. In tutti questi anni ci sono rimasta il minimo necessario. Inoltre, francamente, studiare non è mai stato il mio forte. Bugiarda, bugiarda e snob. Ma no, giuro. E quest'autunno di mettermi lì buona buona me la sento ancora meno. Lo sai che cosa mi piacerebbe fare, caro te, invece che seppellirmi in biblioteca? Sentiamo. Giocare a tennis, ballare e flertare, figurati. Onesti, svaghi, tennis e ballo compresi, a cui volendo potresti benissimo darti anche in Venezia. Sicuro, con la governante dello zio Giulio e dello zio Federico sempre alle calcagna. Beh, per il tennis non mi dirai che non potresti farlo. Io, per esempio, appena posso, prendo il treno e filo a Bologna. Ah, filerai a filare, va là, confessa, dall'amorosa. No, no, devo laurearmi anch'io l'anno prossimo. Non so ancora se in storia dell'arte o in italiano, ma credo in italiano ormai. E quando ne ho voglia mi concedo un'ora di tennis, fisso un ottimo campo a pagamento in via del cestello o al littoriale e nessuno può dire niente. Perché non fai altrettanto tu a Venezia? La questione è che per giocare a tennis e ballare ci vuole il partner, mentre io a Venezia non conosco nessuno di adatto. E poi ti dico, Venezia sarà bellissima, non discuto, però non mi ci trovo, mi sento provvisoria, spaesata, un po' come all'estero. Vai a dormire dagli zii? Eh già, dormire e mangiare. Capisco. Comunque due anni fa, quando a Ca' Foscari ci sono stati i littoriali, ti ringrazio di non essere venuta, sinceramente. La considero la pagina più nera della mia vita. Perché mai? Dopotutto ti dirò anzi che a un certo punto, sapendo che ti presentavi, ho nutrito il gentile pensierino di a correre a fare un po' di clac per la bandiera. Ma senti piuttosto, ti ricordi di quella volta sulla mura degli angeli, qui fuori, l'anno che sei stato rimandato a ottobre in matematica? Dovevi aver pianto come un vitello, povero santo, avevi certi occhi. Volevo consolarti. Mi era perfino venuto in mente di farti scavalcare il muro, di farti entrare in giardino. E per quale ragione non ci sei entrato, poi? So che non sei entrato, ma non ricordo perché. Perché qualcuno ci ha sorpresi sul più bello. Ah, sì, Perotti, quel cane di Perotti, il giardiniere. Giardiniere? Cocchiere, mi sembrava. Giardiniere, cocchiere, chauffeur, portinaio, tutto. È ancora vivo? E come? E il cane? Il cane vero, quello che abbaiava. Chi? Ior? Sì, il danese. Anche lui, vivo e vegeto. Aveva ripetuto l'invito del fratello. Non so se Alberto ti ha poi telefonato, ma perché non viene a fare un po' di palleggio a casa nostra? Però senza insistere e senza affatto accennare, a differenza di lui, alla lettera del marchese Barbicinti, non accennò a niente altro che al puro piacere di rivedersi dopo tanto tempo e di godere assieme, in barba a tutti i divieti, quanto di bello restava da godere della stagione. Parte seconda. Capitolo secondo. Non ero stato il solo ad essere invitato. Quando quel sabato pomeriggio sbucai in fondo a corso Ercole I, evitati la giovecca e il centro provenivo dalla non lontana piazza della Certosa, mi accorsi immediatamente che davanti al portone di casa Finzi Contini sostava all'ombra un piccolo gruppo di tennisti. Erano in cinque, anche loro in bicicletta, quattro ragazzi e una ragazza. Le labbra mi si piegarono in una smorfia di disappunto, che gente era. Tranne uno che non conoscevo neppure di vista, un tipo più anziano sui venticinque, con pipa fra i denti, calzoni lunghi di lino bianco e giacca di fustagno marrone, gli altri, tutti quanti in pullover colorati e in pantaloncini corti, avevano proprio l'aria di essere frequentatori abituali dell'Eleonora d'Este. Arrivati da qualche momento, aspettavano di poter entrare, ma siccome il portone tardava ad aprirsi, ogni tanto, in segno di allegra protesta, cessavano di parlare ad alta voce e di ridere, per mettersi a suonare ritmicamente i campanelli delle biciclette. Fui tentato di tornarmene indietro. Troppo tardi. Già non suonavano più i campanelli e mi fissavano, incuriositi. Uno poi, nel quale avvicinandomi, ravvisai ad un tratto Bruno Lattes, stava addirittura facendo segnali con la racchetta brandita in cima al braccio, lungo e magrissimo. Intendeva farsi riconoscere, non eravamo mai stati granché amici, più giovane di me di due anni, nemmeno a Bologna, a lettere c'eravamo incontrati molto spesso, e insieme esortarmi a venire avanti. Ormai ero fermo, giusto faccia a faccia con Bruno, la mano sinistra appoggiata alla liscia quercia del portone. Buongiorno, dissi e sogghignavo. Per qual motivo tanto concorso da queste parti oggi? È forse finito il torneo sociale o invece mi trovo al cospetto di una schiera di eliminati? Avevo parlato studiando accuratamente la voce e le parole. Li osservavo, frattanto, ad uno ad uno. Guardavo l'Adriana Trentini, i suoi bei capelli biondissimi, le sue gambe lunghe affusolate, magnifiche senza dubbio, ma dalla pelle troppo bianca, sparsa delle strane chiazze rosse che sempre le venivano quando era accaldata. Guardavo il giovanotto taciturno, in pantaloni di lino e giacca marrone, non certo un ferrarese, mi dicevo. Guardavo gli altri due ragazzi molto più giovani di quest'ultimo e della stessa Adriana. Entrambi ancora al liceo, forse, o all'istituto tecnico, e appunto perciò, per essere venuti su durante l'ultimo anno, nel corso del quale mi ero estraniato a grado a grado da ogni ambiente della città, a me semi ignoti. E guardavo infine Bruno, lì davanti, sempre più alto e secco, sempre più simile di carnagione scura come era ad un giovane negro vibrante e apprensivo, e in preda anche quel giorno ad una tale agitazione nervosa, da riuscire a trasmettermela attraverso il lieve contatto delle gomme anteriori, delle nostre due biciclette. Passò rapida tra me e lui, l'inevitabile occhiata di ebraica connivenza, che mezzo ansioso e mezzo disgustato già prevedevo. Allora aggiunsi continuando a guardarlo. Voglio sperare che prima di azzardarvi a venire a giocare in un posto diverso dal solito, abbiate chiesto il permesso al signor Barbicinti. Lo sconosciuto non ferrarese, sia che fosse meravigliato dal mio tono sarcastico, sia che si sentisse a disagio, ebbe un piccolo movimento al mio fianco. Invece che moderarmi, la cosa mi eccitò ancora più. Rassicuratemi da bravi, insistei. Si tratta da parte vostra di una scappata consentita o, viceversa, di un'evasione. «Ma come?» prorruppe l'Adriana con l'abituale sventatezza, innocente, certo, ma non per questo meno offensiva. «Non sai quello che è successo mercoledì scorso, durante la finale del doppio misto? Non dire che non c'eri su, e piantala con le tue eterne arie da vittorio al fieri. Mentre noi giocavamo ti ho visto tra il pubblico, ti ho visto benissimo. «Non c'ero affatto», ribattei seccamente. «Non bazzi con la zona da almeno un anno. E perché? Perché ero sicuro che un giorno o l'altro sarei stato buttato fuori lo stesso. Di fatti non mi sbagliavo. Ecco qua la letterina di congedo». Tirai fuori dalla tasca della giacca la busta. «Immagino che l'avrai ricevuta anche tu», aggiunsi rivolto a Bruno. Solo a questo punto l'Adriana parve ricordarsi. Storse le labbra, ma la prospettiva di poter mettermi a parte di un evento importante, da me evidentemente ignorato, travolse subito in lei ogni altro pensiero. Alzò una mano. «Sarà il caso di spiegargli», disse. Sbuffò, levò gli occhi al cielo. Era capitato un fatto molto antipatico. Cominciò quindi a raccontarmi in tono da maestra, mentre uno dei ragazzi più giovani tornava a schiacciare il piccolo aguzzo pulsante di corno nero del campanello d'ingresso. Va bene, io non lo sapevo, ma lei e Bruno, nel torneo sociale di chiusura, cominciato appunto a metà della settimana precedente, avevano raggiunto niente meno che la finale. Risultato questo a cui mai e poi mai si sarebbero sognati di poter aspirare. Basta, l'incontro decisivo stava ancora durando e le cose avevano anzi cominciato a prendere la più strana delle pieghe, c'era da sgranare gli occhi parola d'onore. Desiree Baggioli e Claudio Montemezzo, due e quindici, messi in difficoltà da una coppia di non classificati, tanto da perdere il primo set per dieci ad otto e di trovarsi parecchio male anche nel secondo, quando di colpo, per decisione esclusiva e imprevedibile del marchese Barbicinti, come sempre giudice arbitro del torneo e una volta di più insomma gran capo, la partita aveva dovuto subire un brusco stop. Erano le sei, ormai ci si vedeva abbastanza poco, d'accordo, non così male però che non fosse possibile tirare avanti per almeno due games. Si fa così santa pace, a quattro giochi a due del secondo set di una gara importante non si ha il diritto fino a prova contraria, di mettersi a gridare alt, di entrare in campo a braccia spalancate, proclamando sospesa la partita per sopraggiunta oscurità e rimandandone il proseguimento e la conclusione al pomeriggio del giorno dopo. D'altronde non era affatto in buona fede il signor Marchese, figuriamoci, che se lei non lo avesse notato già sul finire del primo set, confabulare fitto fitto con quell'anima nera di Gino Cariani, il segretario del Guff. Si erano messi un po' in disparte dalla gente, di fianco alla palazzina degli spogliatoi, il quale Cariani, forse per dar meno nell'occhio, stava con le spalle completamente girate verso il campo. A lei sarebbe bastata la faccia che aveva il Marchese nell'attimo in cui si era chinato ad aprire il cancelletto d'ingresso, così pallida e stravolta che mai gliene aveva veduta una simile, una faccia da FIFA fa novanta, altro che storie, per rendersi conto come la sopraggiunta oscurità fosse soltanto una povera scusa, una balla. C'era da dubitarne del resto. Del match interrotto non si era neppure più parlato, già che anche Bruno, la mattina del giorno dopo, aveva ricevuto l'identico espresso che avevo ricevuto io, come volevasi dimostrare. E lei, Adriana, era rimasta talmente disgustata e indignata da tutta questa faccenda, che aveva giurato di non metterci più piede all'Eleonora d'Este, almeno per un pezzo. Avevano qualcosa contro Bruno? Se ce l'avevano, potevano benissimo vietargli di iscriversi al torneo. Dirgli onestamente, siccome le cose stanno così e così, spiacenti ma non possiamo accettare la tua iscrizione. Ma torneo cominciato, anzi quasi finito, e a un pelo per giunta che lui vincesse una delle gare non dovevano in nessun modo comportarsi come si erano comportati. Quattro a due. Che porcheria. Una maniera di trattare del genere era roba da Zulu, non da persone ben educate e civili. L'Adriana Trentini parlava, via via più infervorata, e anche Bruno ogni tanto interloquiva, aggiungendo particolari. Secondo lui, la partita era stata interrotta per colpa soprattutto di Cariani, da parte del quale, bastava conoscerlo, altro non ci si sarebbe potuto aspettare. Era fin troppo evidente una mezza cartuccia del suo stampo, con un petto da tisico e ossa da cardellino, il cui unico pensiero, dal primo momento che aveva fatto il suo ingresso nel guff, era stato quello di prepararsi una carriera, e per questo motivo non trascurava occasione in pubblico e in privato di leccare i piedi al federale. Non lo avevo mai visto io al caffè della borsa, le rare volte che gli riusciva di sedersi al tavolino dei vecchi marpioni della bomba mano. Si gonfiava tutto, bestemmiava, sfoggiava parolacce più grosse di lui, ma non appena il console bolognesi, o sciagura, o qualche altro gerarca del gruppo, gli davano sulla voce, eccolo mettere prontamente la coda fra le gambe, capace magari, pur di farsi perdonare e di ritornare in grazia, dei servizi più umili. Come di correre dal tabaccaio a comprare il pacchetto di Jubek per il federale, oppure di telefonare a casa sciagura, preannunciando il prossimo rientro del grand'uomo alla mogliera ex lavandaia. Un verme di quel calibro, non se l'era certo lasciata scappare, lui ci avrebbe scommesso la testa, l'opportunità una volta di più di farsi bello in federazione. Il marchese Barbicinti era la persona che era, un signore distinto, senza dubbio, ma piuttosto a terra, infatto da autonomia di carburante, e tutt'altro che un eroe. Se lo tenevano a mandare avanti le Leonora d'Este, ce lo tenevano perché si presentava bene, e per il nome soprattutto, che nelle loro teste chissà che razza di specchietto per le allodole si sognavano che fosse. Doveva dunque essere stato uno scherzo per Cariani riempire il povero N.H. di Tremarella. Gli aveva detto magari, e domani? Ha pensato a domani sera, marchese, quando il federale verrà qui per la festa ad aballo e si troverà a dover premiare un lattes con tanto di coppa d'argento e relativo saluto romano. Io per me prevedo un grosso scandalo, e grane, grane a non finire. Al posto suo, dato anche che comincia a far buio, non ci penserei due volte a interrompere la partita. Non c'era voluto niente di più, garantito al limone, per indurre l'altro alla grottesca e penosa irruzione nella quale si era prodotto. Prima che l'Adriana e Bruno avessero terminato di mettermi al corrente su questi avvenimenti, a un certo punto l'Adriana trovò anche modo di presentarmi al giovanotto forestiero tale Malnate, Giampiero Malnate, milanese, chimico di fresca nomina presso una delle nuove fabbriche di gomma sintetica della zona industriale. Il portone era stato finalmente aperto. Era apparso sulla soglia un uomo di una sessantina d'anni, grosso atticciato, con capelli grigi tagliati corti, da cui il sole delle due e mezzo, prorompendo a fiotti attraverso il varco verticale dietro le sue spalle, strappava riflessi di metallico nitore e baffi ugualmente corti e grigi, sotto il naso carnoso e violaceo. Un po' alla Hitler, mi venne fatto di pensare, naso e baffetti. Era proprio lui, il vecchio Perotti, giardiniere, cocchiere, chauffeur, portinaio, tutto come aveva detto Micol. Niente affatto mutato nel complesso dai tempi del Guarini, quando assiso in serpa aspettava impassibile che l'antro buio e minaccioso dal quale impavidi, col sorriso sulle labbra, i suoi signorini erano stati inghiottiti, si decidesse una buona volta a restituirli, non meno sereni e sicuri di sé, alla vettura tutta cristalli, vernici, nichelature, stoffe felpate, legni squisiti, simile davvero ad una teca preziosa, della cui conservazione e guida soltanto lui era responsabile. I piccoli occhi, per esempio, grigi, anche essi, e pungenti, scintillanti di dura contadinesca arguzia veneta, ridevano bonari sotto i folti sopraccigli quasi neri, tali e quali come una volta. Ma di che cosa adesso? Che fossimo stati lasciati lì ad attendere dieci minuti almeno? Oppure di sé medesimo che si era presentato in giacchetta di rigatino e guanti di filo bianco, nuovi di zecca questi, inaugurati magari per l'occasione? Eravamo quindi entrati, accolti, di là dal portone, subito richiuso con un gran colpo, per opera del solerte Perotti, dai pesanti latrati di Ior, il danese bianco e nero. Veniva giù lungo il viale d'accesso il cagnone, trottando straccamente alla nostra volta, con un'aria per nulla minacciosa. Ciò non di meno Bruno e Adriana di colpo tacquero. «Non morderà mica?» chiese Adriana, intimolita. «Non si preoccupi, signorina», rispose Perotti, «coi tre o quattro denti che gli sono rimasti, cossavorla che sia buono a mordere ormai, sì e no la polenta». E mentre il decrepito Ior, arrestatosi in mezzo al viale, in posa scultorea, ci fissava coi suoi due geli di occhi senza espressione, uno scuro e uno blu chiaro, Perotti cominciò a scusarsi. Gli dispiaceva di averci fatti aspettare, disse, ma la colpa non era sua, bensì dalla corrente elettrica, che ogni tanto mancava. Fortuna che la signorina Micol, accortasene, lo aveva subito mandato a vedere se per caso non fossimo già arrivati, nonché della distanza di più di mezzo chilometro, purtroppo. Lui in bicicletta non sapeva andarci, però quando la signorina Micol si era messa in testa una cosa? Sospirò, levò gli occhi al cielo, sorrise chissà perché ancora una volta, scoprendo tra le labbra sottili una dentatura ben altrimenti compatta e forte che non quella del danese. E intanto col braccio levato ci indicava il viale che dopo un centinaio di metri si inoltrava dentro un folto di canne d'India. Anche a poter usare la bicicletta, avvertì, tre o quattro minuti soltanto per arrivare al palazzo, bisognava sempre metterceli. Parte seconda, capitolo terzo. Fummo davvero molto fortunati con la stagione. Per dieci o dodici giorni il tempo si mantenne perfetto, fermo in quella specie di magica sospensione, di immobilità dolcemente vitrea e luminosa che è particolare di certi nostri autunni. Nel giardino faceva caldo, appena meno che se si fosse d'estate. Chi ne aveva voglia poteva tirare avanti col tennis fino alle cinque e mezzo e oltre, senza timore che l'umidità della sera verso novembre già così forte danneggiasse le corde delle racchette. A quell'ora naturalmente sul campo non ci si vedeva quasi più. Però la luce che continuava a dorare laggiù in fondo i declivi erbosi della mura degli angeli, pieni, specie la domenica, di una quieta folla multicolore, ragazzi che correvano dietro al pallone, balli e sedute a sferruzzare accanto alle carrozzine, militari in libera uscita, coppie di innamorati alla ricerca di posti dove abbracciarsi. Quell'ultima luce invitava ad insistere in palleggi non importa se ormai pressoché ciechi. Il giorno non era finito, valeva la pena di giocare ancora un poco. Tornavamo ogni pomeriggio, dapprima preavvisando con una telefonata, poi nemmeno, e sempre gli stessi, ad eccezione talvolta di Giampiero Maldate, il quale aveva conosciuto Alberto fin dal 33 a Milano, e a differenza di ciò che avevo creduto il primo giorno, incontrandolo davanti al portone di casa Finzi Contini, non soltanto non aveva mai visto prima d'allora i quattro ragazzi con cui si accompagnava, ma non aveva mai avuto nulla da spartire né con l'Eleonora d'Este, né col suo vicepresidente e segretario, Marchese Ippolito Barbicinti. Le giornate apparivano troppo belle e insieme troppo insidiate dall'inverno ormai imminente. Perderne una sola sembrava proprio un delitto. Senza darci appuntamento, arrivavamo sempre intorno alle due, subito dopo mangiato. Spesso, all'inizio, tornava a succedere che ci ritrovassimo tutti quanti in gruppo dinnanzi al portone, in attesa che però ti venisse ad aprire. Ma l'istituzione, dopo circa una settimana di un citofono e di una serratura comandata a distanza, fece sì che, l'entrata nel giardino non rappresentando più un problema, sopraggiungessimo spesso alla spicciolata, come capitava. Per quel che mi riguarda non mancai un solo pomeriggio, neanche per fare una delle mie consuete corse a Bologna. E neppure gli altri, se ben ricordo, né Bruno Lattes, né l'Adriana Trentini, né Carletto Sani, né Tonino Collevatti, ai quali successivamente si aggiunsero, a parte mio fratello Ernesto, altri tre o quattro ragazzi e ragazze. L'unico che, come ho detto, venisse con minore regolarità era il Giampiero Malnate, cominciò a Micol, a chiamarlo così, e presto l'uso fu generale. Aveva da fare i conti con gli orari di fabbrica, spiegò una volta. Non severissimi, è vero, dato che di gomma sintetica lo stabilimento Montecatini, dove lui lavorava, non ne aveva prodotto finora neanche un chilo, ma pur sempre orari. Comunque sia, mai che le sue assenze durassero più di due giorni filati. Ed altronde era anche l'unico, lui, oltre a me, che a giocare a tennis non mostrasse di tenere eccessivamente, per la verità giocava piuttosto male, talora accontentandosi, quando compariva in bicicletta verso le 5 dopo il laboratorio, di arbitrare una partita o di sedere in disparte con Alberto a fumare la pipa e a conversare. I nostri ospiti erano addirittura più assidui di noi. Potevamo capitare quando ancora dovevano battere le due al lontano orologio di piazza, per presto che si arrivasse si era sicuri di trovarli già sul campo, e neanche giocando fra loro adesso, come quel sabato che eravamo sbucati nella radura, dietro la casa dove il campo si trovava, bensì intenti a controllare che ogni cosa fosse in ordine, la rete a posto, il terreno ben rullato e annaffiato, le palle in buone condizioni, oppure stesi su due sedie a sdraio, con grandi cappelli di paglia in capo, immobili a prendere il sole. Come padroni di casa non si sarebbero potuti comportare meglio. Sebbene fosse chiaro che il tennis, inteso come puro esercizio fisico, come sport, a loro interessava fino a un certo punto, ciò non di meno restavano lì fin dopo l'ultima partita, l'uno, l'altro, sempre, ma certe volte tutti e due, senza mai accomiatarsi in anticipo col pretesto di un impegno, di cose da sbrigare, di un malessere. Qualche sera, anzi, erano proprio loro, nel buio pressoché totale, a insistere perché si facessero ancora quattro palle, le ultime, e a risospingere in campo chi già stava uscendone. Come avevano subito dichiarato, senza nemmeno tanto abbassare la voce Carletto Sani e Tonino Collevatti, il campo non si poteva certo dire che valesse molto. Da pratici quindicenni, troppo giovani per avere mai frequentato terreni di gioco diversi da quelli che riempivano di giusto orgoglio il marchese Barbicinti, erano immediatamente partiti a stendere l'elenco dei difetti di quella specie di campo di patate, così si era espresso uno di loro piegando le labbra in una smorfia di disprezzo. E cioè, quasi niente out, specie dietro le righe di fondo, terreno bianco e poi mal drenato, che per poco che fosse piovuto si sarebbe trasformato in un pantano, nessuna siepe sempre verde a contatto delle reti metalliche di recinzione. Se non che, non appena avevano finito la loro sfida alla morte, Micolla non era riuscita ad impedire che il fratello la raggiungesse sul cinque pari e a questo punto avevano interrotto, i medesimi difetti si erano affrettati a denunciare senza ombra di reticenza, direi anzi con una sorta di bizzarro entusiasmo autolesionistico, Alberto e Micolle stessi, a gara. Eh sì, aveva detto Micolle mentre ancora stava passandosi un asciugamano di spugna sul viso accaldato. Per gente come noi altri, viziata dai terreni rossi dell'Eleonora d'Este, sarebbe stato ben difficile sentirsi a proprio agio su quel loro polveroso campo di patate. E gli outs? Come avremmo potuto giocare con così poco spazio, soprattutto dietro le spalle. In quale abisso di decadenza eravamo precipitati, poveri noi. Lei però aveva la coscienza a posto. Al papà glielo aveva ripetuto infinite volte che le reti metalliche bisognava decidersi a spostarle tutte quante di almeno tre metri. Ma figuriamoci, lui, il papà, tirando ogni volta fuori il tipico modo di vedere degli agricoltori che la terra, a loro se non serve a piantarci roba, gli sembra buttata via. Puntava, è chiaro, anche sul fatto che lei e Alberto, sopra un campaccio del genere ci avevano giocato fino da bambini e che perciò potevano benissimo continuare a giocarci, anche da grandi. Lui, il papà, aveva sempre nicchiato. Quanta di quella fatica, accidenti. Adesso comunque era diverso. Adesso avevano ospiti, illustri ospiti, ragion per cui sarebbe tornata alla carica con energia, tanto seccando e tormentando il canuto genitore che per la primavera prossima si sentiva di poter garantirlo. Lei e Alberto sarebbero stati in grado di offrirci qualcosa di degno. Parlava più che mai nel suo solito stile e sogghignava. E a noi non era rimasto altro da fare che smentire, assicurare in coro che tutto, campo compreso, andava invece più che bene, magnificando in aggiunta la cornice verde del parco, davanti al quale i rimanenti parchi privati cittadini, quello del duca Massari compreso, era stato Bruno Lattes a dichiararlo proprio nel momento in cui Micolle e Alberto erano usciti insieme dal campo tenendosi per mano e sbiadivano all'arrango di pettinati giardinetti borghesi. Ma il campo da tennis non era degno veramente e inoltre, essendo unico, obbligava a turni di riposo troppo lunghi. Così alle quattro in punto di ogni pomeriggio, soprattutto allo scopo forse che i due quindicenni della nostra eterogenea compagnia non fossero indotti a rimpiangere le ore molto più intense dal lato sportivo, che avrebbero potuto trascorrere sotto le ali del marchese Barbicinti, ecco spuntare invariabilmente Perotti, col collo taurino teso e rosso per lo sforzo di reggere nelle mani guantate un grande vassoio d'argento. Era stracolmo il vassoio, di panini imburrati all'acciuga, al salmone affumicato, al caviale, al fegato d'oca, al prosciutto di maiale, di piccoli volovans ripieni di battuto di pollo misto a besciamella, di minuscoli buricchi usciti certo dal prestigioso negozietto cascer che la signora Bezzabea, la celebre signora Bezzabea da Fano, conduceva da decenni in via Mazzini a delizia e gloria dell'intera cittadinanza. E non era finita. Il buon Perotti aveva ancora da sistemare il contenuto del vassoio sul tavolino di Vimini, apposta preparato davanti all'ingresso laterale del campo, sotto un largo ombrellone a spicchi rossi e blu, che era raggiunto da una delle figlie, o la Dirce o la Gina, entrambe all'incirca della stessa età di Micol ed entrambe a servizio in casa, la Dirce come cameriera, la Gina come cuoca. I due maschi, Titta e Beppi, il primo sui trent'anni, il secondo di diciotto, badavano invece al parco, nella doppia mansione di giardinieri e di ortolani, e più che a intravederli talora in distanza, curvi a lavorare, rapidi a volgere su di noi, trascorrenti in bicicletta, il lampo dei loro occhi azzurri e ironici, più che a tanto, non eravamo mai riusciti. Lei, la figlia, si era a sua volta tirata dietro, giù per il sentiero che portava dalla Magna Domus al tennis, un carrello con le ruote gommate, carico anche questo di caraffe, cuccume, bicchieri e tazze. E dentro le cuccume di porcellana e di peltro era contenuto del tè, del latte, del caffè. Dentro le imperlate caraffe di cristallo di Bohemia, della limonata, del succo di frutta, dello schivasser. Una bevanda dissetante, quest'ultima, composta ad acqua e sciroppo di lampone in parti uguali, con aggiunti una fetta di limone e qualche chicco d'uva, che Mikol prediligeva su tutte e di cui si mostrava particolarmente orgogliosa. Oh, lo schivasser! Nelle pause del gioco, oltre ad addentare qualche panino, che sempre, non senza ostentazione di anticonformismo religioso, sceglieva tra quelli al prosciutto di maiale. Spesso Mikol tracannava a piena gola un intero bicchiere del suo caro beverone, incitandoci di continuo a prenderne anche noi. In omaggio, diceva ridendo, al defunto impero austro-ungarico. La ricetta, aveva raccontato, le era stata data proprio in Austria, a Hofgastein, nell'inverno del 34, l'unico inverno che lei e Alberto, coalizzati, ce l'avevano fatta ad andarci per una quindicina di giorni da soli a sciare. E sebbene lo schivasser, il nome lo testimoniava, fosse bevanda invernale, ragion per cui avrebbe dovuto essere servito caldo, bollente, tuttavia anche in Austria c'erano tipiche d'estate per continuare a berlo, lo bevevano così in stesura ghiacciata e senza fetta di limone, e lo chiamavano in quel caso in birwasser. Ad ogni modo, prendessimo ben nota, aveva aggiunto con comica enfasi alzando un dito, i chicchi d'uva, importantissimi. Era stata lei di propria iniziativa a introdurli nella classica ricetta tirolese. Era stata un'idea sua e ci teneva, c'era poco da ridere. Rappresentava, valluva, il particolare contributo dell'Italia alla santa e nobile causa dello schivasser, ovvero di esso più esattamente, la particolare variante italiana, per non dire ferrarese, per non dire eccetera eccetera. Parte seconda, capitolo quarto. Gli altri di casa ci volle un po' di tempo perché cominciassero a farsi vedere. A questo proposito, anzi, il primo giorno era accaduto un fatto curioso, tale che a ricordarmene verso la metà della settimana successiva, quando né il professore Ermanno né la signora Olga erano ancora apparsi, mi aveva indotto a sospettare da parte di tutti quelli che l'Adriana Trentini chiamava in blocco il cotè vecchi, l'unanime decisione di tenersi alla larga dal tennis, forse per non imbarazzare, chi lo sa, per non snaturare con la loro presenza ricevimenti che in fondo non erano ricevimenti, ma semplici riunioni di ragazzi in giardino. Il fatto curioso era accaduto all'inizio, poco dopo che ci eravamo accomiatati da Perotti e da Ior, rimasti là a guardarci mentre ci allontanavamo in bicicletta lungo il viale d'accesso. Superato il canale Panfiglio attraverso uno strano massiccio ponte di travi nere, la nostra pattuglia ciclistica era dunque arrivata ad un centinaio di metri di distanza dalla solitaria mole neogotica della magna domus, o per essere più esatti dal ghiaiato triste piazzale interamente all'ombra che le si stendeva davanti, quando l'attenzione di tutti era stata attirata da due persone ferme proprio nel mezzo del piazzale, una vecchia signora seduta in poltrona con un cumulo di cuscini a sostegno della schiena e una giovane bionda e prosperosa dall'aria di cameriera ritta in piedi dietro di lei. Non appena ci aveva veduti venire avanti, la signora era stata scossa da una specie di soprassalto. Dopodiché si era subito messa a fare grandi segnalazioni con le braccia per significare che no, non dovevamo andare oltre, procedere verso il piazzale dove lei stava, dato che lì dietro altro non c'era che la casa, ma prendere invece a sinistra per il sentiero coperto da una galleria di roselline rampicanti che lei ci indicava al termine del quale, Micol e Alberto stavano già giocando, non si sentivano dal punto dove eravamo gli schiocchi regolari che le loro racchette facevano rimandandosi la palla, noi avremmo automaticamente incontrato il campo di tennis. Era la signora Regina Herrera, la madre della signora Olga. L'avevo subito riconosciuta dal particolare intenso candore dei folti capelli raccolti a cercine sulla nuca, capelli da me sempre ammirati, ogni qual volta al tempio da bambino mi succedeva di intravederli attraverso la grata del matroneo. Agitava braccia e mani con bizzosa energia, facendo intanto segno alla ragazza, che era poi la dirce, di aiutarla a tirarsi su. Era stanca di star lì, aveva voglia di rientrare e la cameriera aveva obbedito all'ordine con istantanea sollecitudine. Una sera tuttavia, contro ogni aspettativa, furono il professore Ermanno e la signora Olga a comparire. Avevano l'aria di essere passati dal tennis per puro caso, di ritorno da una lunga passeggiata nel parco. Si tenevano a braccetto, più piccolo della moglie e molto più curvo di quanto non fosse dieci anni avanti, all'epoca dei nostri sussurrati colloqui a scuola italiana da un banco all'altro, il professore indossava uno dei suoi soliti leggeri abiti di tela chiara, con un panama dal nastro nero calato sulle spesse lenti del pince-nez e appoggiandosi per camminare ad una canna di bambù. Vestita a lutto, la signora portava fra le braccia un grosso mazzo di crisantemi, colti in qualche remota parte del giardino nel corso della passeggiata. Li premeva contro il petto di traverso, cingendoli col braccio destro in atto teneramente possessivo, quasi materno. Quantunque ancora dritta e alta più del marito di tutta la testa, anche lei appariva molto invecchiata. I capelli le erano diventati uniformemente grigi, d'un grigio brutto, tetro. Sotto la fronte ossuta e sporgente, gli occhi nerissimi brillavano dell'ardore fanatico e patito di sempre. Chi di noi sedeva attorno all'ombrellone si alzò, chi giocava smise. «Comodi, comodi», fece il professore con la sua gentile voce musicale. «Non disturbatevi, prego, continuate pure a giocare». Non fu ubbidito. Nicole e Alberto provvidero subito a presentarci, specialmente Nicole. Oltre a dire nomi e cognomi, indugiava ad illustrare ciò che di ognuno supponeva dovesse suscitare l'interesse del padre. Studi e occupazioni in primo luogo. Aveva cominciato con me e con Bruno Lattes, parlando sia dell'uno sia dell'altro in modo distaccato, marcatamente oggettivo, come per trattenere in quella particolare circostanza il padre da qualche possibile segno di speciale riconoscimento e preferenza. Eravamo i due letterati della combriccola, tipi bravissimi. Passò quindi a malnate. «Ecco un bel esempio di devozione scientifica», esclamò con enfasi ironica. «Soltanto la chimica, nei confronti della quale nutriva una passione evidentemente irresistibile, avrebbe potuto indurlo a lasciarsi dietro le spalle una metropoli così piena di risorse come Milano, Milan, Leon Gran Milan, per venire a seppellirsi in una cittaduzza del genere della nostra. Lavora alla zona industriale», spiegò Alberto, semplice e serio, «in uno stabilimento della Montecatini. Dovrebbero produrvi gomma sintetica», ridacchiò Micol, «ma non sembra che finora ci siano riusciti». Il professore Armanno tossì, puntò un dito verso malnate. «Lei è stato compagno di Università di Alberto», indagò gentilmente. «Non è vero?» «Beh, in un certo senso», rispose l'altro assentendo con un cenno del capo. «A parte le facoltà diverse, io ero tre anni più avanti, però ci siamo fatti lo stesso ottima compagnia». «Sì, so, mio figlio ci ha parlato molto sovente di lei, ci ha anche riferito di essere stato diverse volte a casa loro e che i suoi genitori in varie occasioni furono pieni con lui di gentili premure. Vuole ringraziarli a nostro nome quando li rivedrà. Intanto siamo ben lieti di averla qui a casa nostra e torni, eh, ritorni pure tutte le volte che ne avrà voglia». Si girò dalla parte di Micol e le chiese, indicando l'Adriana «E questa signorina chi è? Se non erro, dovrebbe essere una Zanardi?». La conversazione continuò su questo tono fino ad esaurimento completo delle presentazioni, incluse quelle di Carletto Sani e Tonino Collevatti, definiti da Micol come le due speranze del tennis ferrarese. Da ultimo, il professore Ermanno e la signora Olga, la quale era rimasta per tutto il tempo a fianco del marito senza dire una sola parola e limitandosi a sorridere ogni tanto con aria benevola, si allontanarono sempre a braccetto verso casa. Sebbene il professore si fosse congedato con un arrivederci più che cordiale, a nessuno sarebbe venuto in mente di tenere eccessivo conto della sua promessa. E invece, la domenica dopo, mentre sul campo Adriana Trentini e Bruno Lattes da una parte e Desiree Baggioli e Claudio Montemezzo dall'altra stavano combattendo con estremo impegno, una partita il cui esito, secondo i dichiarati propositi dell'Adriana, che l'aveva promossa e organizzata, avrebbe dovuto ripagare lei e Bruno almeno moralmente del brutto tiro giocato loro dal marchese Barbicinti, ma la faccenda questa volta non sembrava avviata sui medesimi binari, l'Adriana e Bruno stavano perdendo e piuttosto nettamente, ecco, verso la fine dell'incontro, sbucare ad uno ad uno dal sentiero delle roselline rampicanti l'intero cotè vecchi. Facevano a guardarli un piccolo corteo. In testa il professore Ermanno e la signora. Seguivano, appena distaccati, gli zii Herrera di Venezia. Il primo, la sigaretta tra le grosse labbra sporgenti e le mani intrecciate dietro il dorso, guardandosi attorno con l'aria un po' imbarazzata del cittadino capitato contro voglia in campagna. Il secondo, qualche metro più indietro, tenendo sotto braccio la signora regina e regolando il passo su quello lentissimo della madre. Se il tisiologo e l'ingegnere erano a Ferrara, mi dicevo, dovevano trovarci sì per via di qualche solennità religiosa, ma quale? Dopo Rosh Hashanah, caduta in ottobre, non ricordavo che altra festa ci fosse in autunno. Su Coth, forse, probabile, a meno che l'altrettanto probabile licenziamento dell'ingegner Federico dalle FS non avesse suggerito la convocazione di un consiglio di famiglia straordinario. Sedettero composti, senza far rumore quasi per nulla. Unica eccezione, la signora regina. Nel momento che veniva fatta ad agiare in una sedia a sdraio, pronunciò con voce forte, da sorda, due o tre parole nel gergo di casa. Si lamentava della muccia umidità del giardino a quell'ora, ma accanto a lei vigilava il figlio Federico, il quale, a voce non meno forte, neutra tuttavia la sua, un tono di voce che anche mio padre sfoderava ogni qualvolta in ambiente misto, pretendeva di comunicare con qualcuno di famiglia ed esclusivamente con lui, fu pronto a farla tacere. Badasse a stare Cagliada, cioè zitta, c'era il Musafir. Accostai le labbra all'orecchio di Micol. Fino a Cagliada ci arrivo, ma Musafir cos'è che significa? Ospite, sussurrò lei di rimando, goi però, e rise, coprendosi infantilmente la bocca con una mano e ammiccando, stile Micol 1929. Più tardi, al termine della partita, e dopo che i nuovi acquisti Desiree Baggioli e Claudio Montemezzo furono a loro turno presentati, accadde che mi ritrovassi in disparte col professore Ermanno. Nel parco la giornata stava come d'abitudine spegnendosi in ombra diffusa, color del latte. Mi ero allontanato di qualche decina di metri dal cancelletto d'ingresso. Gli occhi fissi alla lontana mura degli angeli, illuminata di sole, udivo alle mie spalle la voce acuta di Micol, dominare su tutte le altre. Chissà con chi ce l'aveva e perché. «Era già allora che volge il disio», declamò una voce ironica e sommessa, vicinissima. Mi girai stupito. Era il professore Ermanno, appunto, che tutto contento di avermi fatto trassalire, sorrideva Bonario. Mi prese con delicatezza per un braccio, quindi molto lentamente, tenendoci sempre ben discosti dalla rete metallica di recinzione e ogni tanto fermandoci, cominciamo a camminare attorno al campo di tennis. Compimmo un giro quasi completo per poi, alla fine, tornare sui nostri passi, avanti e indietro. Nel buio che via via cresceva, ripetemmo la manovra varie volte. Frattanto parlavamo, o meglio, parlava in prevalenza lui, il professore. Cominciò col chiedermi come giudicassi il campo di tennis, se lo trovavo davvero così indecente. Micol non aveva dubbi, a darle retta si sarebbe dovuto rifarlo da capo a fondo con criteri moderni. Lui invece rimaneva incerto. Forse, al solito, il suo caro terremoto esagerava. Forse non sarebbe stato indispensabile buttare all'aria tutto quanto come lei pretendeva. In ogni caso, aggiunse, tra qualche giorno comincerà a piovere, inutile illudersi. Meglio rimandare ogni eventuale iniziativa all'anno prossimo, non pare anche a te. Ciò detto, passò a domandarmi che cosa stessi facendo, che cosa avevo intenzione di fare nell'immediato futuro, e come stavano i miei genitori. Mentre mi chiedeva del papà, notai due cose. Prima di tutto che stentava a darmi del tu, tant'è vero che di lì a poco, fermandosi di botto, me lo dichiarò esplicitamente, ed io subito a pregarlo con molto e sincero calore che mi facesse il piacere non stesse a darmi del lei, sennò mi offendevo. In secondo luogo, che l'interesse e il rispetto che erano nella sua voce, nel suo viso, mentre si informava della salute di mio padre, specie nei suoi occhi, le lenti degli occhiali, ingrandendoli, accentuavano la gravità e l'amitezza della loro espressione, non apparivano affatto sforzati, per niente ipocriti. Mi raccomandò che gli portassi i suoi saluti e il suo plauso anche, per i molti alberi che erano stati piantati nel nostro cimitero da quando lui aveva preso ad occuparsene. Anzi, servivano dei pini, dei cedri del Libano, degli abeti, dei salici piangenti. Glielo domandassi al papà se per caso servivano, al giorno d'oggi, coi mezzi di cui l'agricoltura moderna disponeva, tra piantare alberi di grosso fusto era diventato uno scherzo, lui sarebbe stato felicissimo di metterne a disposizione nel numero desiderato. Stupenda idea, dovevo ammetterlo, folto di belle e grandi piante, anche il nostro cimitero, col tempo, sarebbe stato in grado di rivaleggiare con quello di San Nicolò del Lido, a Venezia. Non lo conosci? risposi di no. Eh, ma devi, devi cercare di visitarlo al più presto, fece con viva animazione. È monumento nazionale, del resto, tu che sei letterato, ricorderai di sicuro come inizia l'Edmenegarda di Giovanni Prati. Fui costretto a dichiarare ancora una volta la mia ignoranza. Ebbene, riprese il professore Ermanno, il Prati fa cominciare la sua Edmenegarda proprio lì, al cimitero israelitico del Lido, considerato nell'Ottocento come uno dei luoghi più romantici d'Italia. Attento però, se e quando andrai, non dimenticare di dire subito al custode del cimitero, è lui che ha in consegna la chiave del cancello, che intendi visitare quello antico, vada bene, il cimitero antico, dove non seppelliscono più dal Settecento, e non l'altro, il moderno, adesso adiacente ma separato. Io lo scoprì nel 1905, figurati, anche se avevo quasi il doppio dell'età che hai tu adesso, ero ancora scapolo. Vivevo a Venezia, ci fui stabile per due anni, e il tempo che non passavo all'archivio di Stato, in campo dei Frari, a scartabellare fra i manoscritti riguardanti le varie cosiddette nazioni nelle quali era divisa nel 5-600 la comunità veneziana, la nazione levantina, la ponentina, la tedesca, l'italiana. Lo passavo laggiù, talvolta anche d'inverno. Vero è che non ci andavo quasi mai da solo, qui sorrise, e che in qualche modo, decifrando ad una ad una le lapidi del cimitero, di cui molte risalgono al primo cinquecento, e sono scritte in spagnolo e portoghese, continuavo all'aperto il mio lavoro d'archivio. Eh, erano pomeriggi deliziosi quelli, che pace, che serenità, col cancelletto di fronte alla laguna che si apriva soltanto per noi. Ci siamo fidanzati proprio là dentro, Olga e io. Stette un poco silenzioso, ne approfittai per chiedergli quale fosse l'oggetto preciso delle sue ricerche d'archivio. Da principio ero partito con l'idea di scrivere una storia degli ebrei di Venezia, rispose, un argomento suggeritomi appunto da Olga, e che Roth, l'inglese Cecil Roth, ebreo, ha svolto una decina d'anni dopo tanto brillantemente. Poi, come spesso succede agli storici troppo appassionati, certi documenti del Seicento, in cui mi accadde di imbattermi, assorbirono totalmente il mio interesse, finendo col portarmi fuori di strada. Ti racconterò, ti racconterò, se tornerai. Un vero romanzo sotto ogni aspetto. In tutti i modi, invece del grosso tomo storico al quale aspiravo, in capo a due anni non sono riuscito a mettere insieme, a parte una moglie, si capisce, altro che due opuscoli. Uno che ritengo ancora utile, dove ho raccolto tutte le iscrizioni del cimitero, e uno dove ho dato notizia di quelle carte del Settecento che ti dicevo, ma così, esponendo i fatti, e senza azzardare in proposito nessuna interpretazione. Ti interessa vederli? Sì, uno di questi giorni mi permetterò di fartene omaggio. Ma, a prescindere da ciò, vacci, mi raccomando, al cimitero israelitico del Lido, reparto antico, ripeto, merita, vedrai. Lo troverai tale e quale come era trentacinque anni fa, uguale e identico. Tornammo ad agio verso il campo di tennis. A guardare non c'era rimasto più nessuno. Eppure, nelle tenebre, quasi complete, Nicole e Carletto Sani giocavano ancora. Nicole si lamentava che Cochet la facesse troppo correre, che si dimostrasse così poco cavaliere, e del buio anche, francamente eccessivo. Ho saputo da Nicole che eri incerto se laurearti in storia dell'arte o in italiano, mi diceva frattanto il professore Ermanno. Hai poi deciso? Risposi che avevo deciso, risolvendomi a prendere una tesi in italiano. La mia incertezza, spiegai, era di pesa soprattutto dal fatto che fino a pochi giorni avanti avevo sperato di poter laurearmi col professor Longhi, titolare di storia dell'arte, e invece, all'ultimo momento, il professor Longhi aveva chiesto un'aspettativa dall'insegnamento della durata di due anni. La tesi che mi sarebbe piaciuto svolgere sotto la sua guida riguardava un gruppo di pittori ferraresi della seconda metà del Cinquecento e del primo Seicento, lo Scarsellino, il Bastianino, il Bastarolo, il Bonone, il Caletti, il Calzolaretto e altri. Soltanto se guidato da Longhi avrei potuto combinare qualcosa di buono lavorando attorno ad un simile argomento. E così, dato che lui, Longhi, aveva ottenuto dal ministero due anni di aspettativa, mi era sembrato più opportuno ripiegare su una tesi qualsiasi in italiano. Era stato ad ascoltarmi meditabondo. Longhi, domandò alla fine storcendo le labbra dubbioso, cos'è? Hanno già nominato il nuovo titolare della Cattedra di Storia dell'Arte? Non capivo. Ma sì, insistette, professore di Storia dell'Arte a Bologna. Ho sempre sentito dire che è Igino Benevento Supino, una delle massime illustrazioni dell'ebraismo italiano. Dunque, era stato, lo interruppi, era stato, fino al 33, ma dal 34, al posto del Supino messo a riposo per sopraggiunti limiti d'età, era stato appunto chiamato Roberto Longhi. Non li conosceva, lui, seguitai, contento di coglierlo a mia volta in difetto di informazione, i fondamentali saggi di Roberto Longhi su Piero della Francesca e sul Caravaggio e la sua scuola. Non conosceva l'Officina Ferrarese, un'opera che aveva suscitato tanto rumore nel 33, all'epoca della mostra del Rinascimento Ferrarese, tenutasi il medesimo anno nel Palazzo dei Diamanti? Per svolgere la mia tesi, io mi sarei fondato sulle ultime pagine dell'Officina, che il tema si limitavano soltanto a toccarlo, magistralmente, ma senza approfondirlo. Parlavo e il professore Ermanno, più che mai curvo, stava ad ascoltarmi in silenzio. A che cosa pensava? Al numero di illustrazioni universitarie di cui si era fregiato l'ebraismo italiano dall'unità ai nostri giorni? Era probabile. Quando ecco, lo vidi animarsi. Guardandosi attorno e riducendo la voce ad un soffocato bisbiglio, né più né meno che se dovesse mettermi a parte di un segreto di Stato, mi comunicò la gran novità, che lui possedeva un gruppo di lettere inedite del Carducci, lettere scritte dal poeta a sua madre nel 75. Se mi interessava vederle, e se le avessi poi ritenute adatte per farne argomento di una tesi di laurea in italiano, lui era dispostissimo a darmele. Pensando a Meldolesi, non potei fare a meno di sorridere, e il saggio da mandare alla nuova antologia, dopo tanto discorrerne, non aveva dunque combinato mai nulla? Povero Meldolesi. Da qualche anno era stato trasferito al Minghetti di Bologna, con somma sua soddisfazione figurarsi, un giorno o l'altro bisognava proprio che andassi a trovarlo. Nonostante il buio, il professore Ermanno si accorse ugualmente che sorridevo. «Eh, lo so, lo so», disse, «che voi altri giovani da un po' di tempo in qua lo prendete sotto gamba, Giosu e Carducci. Lo so che gli preferite un pascoli e un dannunzio». Mi fu facile persuaderlo che avevo sorriso per tutt'altra ragione, e cioè di disappunto. Averlo saputo che esistevano a Ferrara delle lettere inedite del Carducci, invece che proporre al professor Calcaterra, come purtroppo avevo già fatto una tesi sul Panzacchi, avrei potuto benissimo proporgli un Carducci ferrarese di interesse senza dubbio maggiore. Chissà però, forse, parlando francamente della cosa al professor Calcaterra, che era un'ottima persona, forse ce l'avrei ancora fatta a passare dal Panzacchi al Carducci senza troppo rimetterci indignità. «Ma quando conti di laurearti?», mi chiese infine il professore Ermanno. «Ma spererei l'anno prossimo, a giugno, non dimentichi che sono anche io fuori corso». Annui più volte, silenziosamente. «Fuori corso?», sospirò da ultimo. «Beh, poco male». E fece con la mano un gesto vago, come per dire che con quello che stava succedendo, tanto io quanto i suoi figlioli di tempo davanti a noi ce ne avevano anche troppo. Ma aveva ragione mio padre. In fondo non sembrava granché addolorato di questo. Tutt'altro. Parte seconda. Capitolo quinto. «Vole essere Micola mostrarmi il giardino. Ci teneva. Mi sembra di averne un certo diritto», aveva sogghignato guardandomi. «Il primo giorno, no. Avevo giocato a tennis fino a tardi ed era stato Alberto, quando aveva smesso di combattere con la sorella, ad accompagnarmi fino ad una specie di baita alpina in miniatura, seminascosta in mezzo ad una macchia d'abeti e distante dal campo un centinaio di metri. «Hitte» la chiamavano lui e Micol, nella quale baita o «Hitte», adibita a spogliatoio, avevo potuto cambiarmi e più tardi, all'imbrunire, prendere una doccia calda e rivestirmi. Ma all'indomani le cose erano andate in modo diverso. Un doppio, che opponeva l'Adriana Trentini e Bruno Lattes ai due quindicenni, col mannate seduto in cima alla scrana arbitrale a fare la parte del paziente conteggiatore di punti, aveva subito assunto la piega delle partite che non finiscono mai. «Che cosa facciamo?» mi aveva detto a un certo momento Micol, alzandosi in piedi. «Per riuscire a dare il cambio a questi qua, ho l'impressione che io, te, Alberto e l'amico Meneghino dovremmo aspettare un'ora buona. Senti, e se noi due nell'attesa ci pigliassimo su e andassimo a vedere un po' di piante?» Non appena il campo si fosse reso libero, aveva aggiunto, ci avrebbe certamente pensato Alberto a riconvocarci. Si sarebbe ficcato tre dita in bocca e giù col suo celebre fischio. Si era girata sorridendo verso Alberto, che sdraiato lungo disteso sopra una terza sedia a sdraio, col viso nascosto sotto un cappello di paglia da mietitore, sonnecchiava al sole lì vicino. «Non è vero, signor Pascià?» Di sotto il cappello il signor Pascià aveva sentito con un cenno del capo, e noi ci eravamo avviati. «Sì, suo fratello era formidabile», continuava intanto a spiegarmi Micol. All'occorrenza sapeva tirare fuori certi fischiacci talmente potenti che quelli dei pecorai al confronto erano roba da ridere. Strano, eh, in un tipo del genere. A vederlo uno non gli dava quattro soldi, e invece chissà mai dove andava a pescarlo tutto quel fiato. Fu così che cominciarono quasi sempre, per ingannare le attese fra una partita e l'altra, le nostre lunghe scorribande a due. Le prime volte prendevamo le biciclette. Essendo il giardino grande un dieci ettari e i viali tra maggiori e minori sviluppando nel loro insieme una dozzina di chilometri, la bicicletta era a dir poco indispensabile, aveva prontamente decretato la mia accompagnatrice. «Oggi è vero», aveva ammesso, «noi ci saremmo limitati a sopralluogare soltanto là in fondo dalla parte del tramonto, dove lei e Alberto, da ragazzi, andavano spessissimo a guardare i treni che facevano manovra in stazione. Ma se fossimo andati a piedi, in che modo anche oggi ce la saremmo potuta cavare? Rischiavamo di farci cogliere dall'olifante di Alberto senza essere in grado di ripresentarci con la necessaria prontezza. Quel primo giorno eravamo dunque andati a guardare i treni fare manovra in stazione. E dopo? Dopo eravamo tornati indietro. Avevamo sfiorato il campo di tennis, attraversato il piazzale davanti alla Magna Domus, deserto al solito, più che mai triste, ripercorrendo in senso inverso di là dallo scuro ponte di Travi che attraversava il canale Panfiglio, il viale d'accesso, e questo fino al tunnel delle Canne d'India e al portone di Corso Ercole I. Qui giunti, Micol aveva insistito perché ci infilassimo giù per il sentiero sinuoso che seguiva torno torno il muro di cinta, da prima a sinistra, dal lato della Mura degli Angeli, tanto che in un quarto d'ora avevamo di nuovo raggiunto la zona del parco da cui si vedeva la stazione, e quindi dal lato opposto, assai più selvoso, piuttosto cupo e malinconico, fiancheggiante la deserta via aria nuova. Ci trovavamo appunto là, a farci strada a fatica in mezzo a cespugli di felci, ortiche e sterpi spinosi, quando a un tratto, da dietro il fitto sbarramento dei tronchi, il fischio da pecoraio di Alberto era insorto lontanissimo a richiamarci velocemente al duro lavoro. Con poche varianti di percorso, queste esplorazioni a largo raggio le ripetemmo diverse volte nei pomeriggi successivi, quando lo spazio lo consentiva pedalavamo appaiati e intanto parlavamo di alberi, soprattutto, almeno da principio. In materia non sapevo nulla o quasi nulla, e la cosa non finiva mai di meravigliare Micol. Mi squadrava come se fossi un mostro. «Possibile che tu sia così ignorante!» esclamava. «L'avrai pure studiata al liceo un po' di botanica!» «Sentiamo», chiedeva poi già preparata ad inarcare le sopracciglia dinnanzi a qualche nuova enormità, «potrei sapere per favore che specie di albero lei pensa che sia quello laggiù?» «Poteva riferirsi sia ad onesti olmi e tigli nostrani, sia a rarissime piante africane, asiatiche, americane, che soltanto uno specialista sarebbe stato capace di identificare, già che c'era di tutto al barchetto del duca, proprio di tutto. Quanto a me, io rispondevo sempre a Vandara, un po' perché non sapevo sul serio distinguere un olmo da un tiglio, e un po' perché mi ero accorto che niente le faceva piacere come sentirmi sbagliare. Le sembrava assurdo a lei che esistesse al mondo un tipo come me, il quale non nutrisse per gli alberi, i grandi, i quieti, i forti, i pensierosi, gli stessi suoi sentimenti di appassionata ammirazione. Come facevo a non capire, mio Dio, a non sentire? C'era in fondo alla radura del tennis, per esempio, ad ovest rispetto al campo, un gruppo di sette esili altissime, Washingtonie graciles, o palme del deserto, separate dal resto della vegetazione retrostante, normali alberi di grosso fusto da foresta europea, querce, lecci, platani, ipocastani, eccetera, e con attorno un bel tratto di prato. Ebbene, ogni qual volta passavamo dalle loro parti, Nicole aveva per il gruppo solitario delle Washingtonie sempre nuove parole di tenerezza. «Ecco là i miei sette vecchioni», poteva dire, «guarda che barbe venerande hanno!» «Sul serio», insisteva, «non parevano anche a me sette eremiti della tebaide, asciugati dal sole e dai digiuni. Quanta eleganza, quanta santità in quei loro tronchi bruni, secchi, curvi, scagliosi! Assomigliavano ad altrettanti San Giovanni Battista, veramente nutriti di sole locuste. Ma le sue simpatie, già l'ho detto, non erano affatto circoscritte agli alberi esotici. Per un platano enorme, dal tronco biancastro e bitorzoluto, più grosso di quello di qualsiasi altro albero del giardino e credo dell'intera provincia, la sua ammirazione sconfinava nella riverenza. Naturalmente non era stata la nonna Josette a piantarlo, bensì, bensì Ercole I d'Este in persona, magari, o Lucrezia Borgia. «Ha quasi cinquecento anni, capisci?» sussurrava sbarrando gli occhi. «Pensa un po' quante ne deve aver viste di cose da quando è venuto al mondo». E sembrava che gli occhi e le orecchie ce li avesse anche lui, il platano gigantesco. Occhi per vederci e orecchie per ascoltarci. Per gli alberi da frutta, ai quali era riservata una larga fascia di terreno al riparo dai venti del nord ed esposta al sole immediatamente a ridosso della mura degli angeli, Micol nutriva un affetto molto simile, avevo notato, a quello che mostrava nei riguardi di Perotti e di tutti i membri della sua famiglia. Me ne parlava di quelle umili piante domestiche con la stessa bonarietà, con la stessa pazienza e tirando molto spesso fuori il dialetto da lei adoperato soltanto trattando con Perotti, appunto, o con Titta e Bepi, quando ci accadeva ad incontrarli e ci fermavamo a scambiare qualche frase. Di rito ogni volta era la sosta davanti ad un grande prugno dal tronco poderoso come quello di una quercia, il suo prediletto. Il Bronzerbi che faceva quel prugno là, mi raccontava, le parevano straordinarie da bambina. Le preferiva allora a qualsiasi cioccolatino Lindt. Poi, verso i sedici anni, aveva smesso di colpo di sentirne voglia. Non le erano piaciute più e oggi, alle Brogne, preferiva i cioccolatini Lindt e non Lindt, quelli amari però, esclusivamente quelli amari. Così le mele erano i Pum, i Fichi i Fig, le albicocche il Mugnag, le pesche il Persag. Non c'era che il dialetto per parlare di queste cose. Soltanto la parola dialettale le permetteva, nominando alberi e frutta, di piegare le labbra nella smorfia fra intenerita e sprezzante che il cuore suggeriva. Più tardi, esaurite le ricognizioni, ebbero inizio i Pii pellegrinaggi. E poiché tutti i pellegrinaggi, secondo Micol, dovevano essere compiuti a piedi, altrimenti che razza di pellegrinaggi erano, smettemmo di usare le biciclette. Andavamo a piedi, dunque, quasi sempre accompagnati passo passo da Ior. Per cominciare, fui portato a vedere un piccolo romito imbarcadero sul canale Panfiglio, nascosto in mezzo ad una folta vegetazione di salici, pioppi bianchi e calle. Da quel minuscolo porticciuolo, delimitato tutto intorno da un muschioso sedile di cotto rosso, era probabile che in antico si salpasse per raggiungere sia il Po sia la fossa del castello. E ne salpavano anche lei e Alberto quando erano ragazzi, mi raccontò Micol, per delle lunghe remate su un sandolino a doppia pagaia. Ai piedi delle torri del castello, in pieno centro urbano, loro in barca non c'erano mai arrivati. Come ben sapevo, con la fossa del castello il Panfiglio comunicava oggigiorno soltanto per via sotterranea. Ma fino al Po, proprio di fronte all'isola bianca, e come se c'erano arrivati, attualmente, sa va a sandir, il sandolino non era certo più il caso di pensare ad adoperarlo. Mezzo sfondato, coperto di polvere, ridotto ad una specie di spettro di sandolino, una volta o l'altra avrei potuto vederne la carcassa in rimessa, se lei si fosse ricordata di portarmici. Però il sedile dell'imbarcadero lei aveva sempre continuato a frequentarlo, sempre, sempre, forse perché se ne serviva ancora adesso per venire a prepararci gli esami in santa pace quando cominciava a far caldo, e forse perché, fatto sta, che quel posto lì era rimasto in qualche modo suo, esclusivamente, il suo personale rifugio segreto. Un'altra volta finimmo dai Perotti, che abitavano in una casa colonica vera e propria, con annesso fienile e stalla, a mezza strada fra la casa padronale e la zona dei frutteti. Fummo ricevuti dalla moglie del vecchio Perotti, la Vittorina, una shalbars d'ora, di età indefinibile, triste, magra, allampanata, e dall'Italia, la moglie del figlio maggiore, Titta, una trentenne di codigoro, grassa e robusta, con occhi di un celeste acquoso e capelli rossi. Seduta sulla soglia di casa, sopra una seggiola di paglia, circondata da una folla di galline, la sposa allattava, e Micol si chinò ad accarezzare il bambino. E allora, quando è che torni ad invitarmi a mangiare la minestra di fagioli? chiedeva intanto alla Vittorina, in dialetto. «Quando vuole lei, signorina, basta solo che si contenti. Uno di questi giorni dobbiamo proprio combinare», rispose Micol, grave. «Devi sapere», aggiunse rivolta a me, «che la Vittorina fa delle minestre di fagioli monstre, con la cotica di maiale, naturalmente». Rise, «e poi vuoi dare un'occhiata alla stalla? Abbiamo ben sei vacche». Preceduti dalla Vittorina, ci dirigemmo verso la stalla. L'Arsdora ce ne aprì la porta con una grossa chiave che teneva nella tasca del grembiule nero, quindi si tirò da parte per lasciarci passare. Mentre varcavamo la soglia della stalla, mi accorsi di un suo sguardo che ci avvolgeva furtivo, pieno di preoccupazione, mi parve, ma anche di segreto compiacimento. Un terzo pellegrinaggio fu dedicato ai luoghi sacri al vert paradis des amours enfantants. Da quelle parti, nei giorni precedenti, ci eravamo passati più volte, ma in bicicletta e senza mai fermarci. «Ecco là il punto esatto del muro di cinta», mi diceva adesso Micol, indicandomelo col dito, «dove lei era solita appoggiare la scala». «Ed ecco le tacche, tacche, sì signore, delle quali si serviva quando, e accadeva, la scala non era disponibile». «Non credi che sarebbe giusto metterci una targhetta commemorativa in questo posto?» mi chiese. «Suppongo che avrei già in mente come dovrà essere l'epigrafe». «Pressa poco, per di qua, eludendo la vigilanza di due enormi cagnacci, alt, parlavi di una targhetta, ma di questo passo ho paura che avrai bisogno di un lastrone di quelli tipo bollettino della vittoria. La seconda riga è troppo lunga». Ne nacque un litigio. Io recitavo la parte del testardo interrompitore e lei, alzando la voce e bamboleggiando, ad accusarmi della solita pignoleria. «Era evidente», gridava. «Io dovevo aver rifiutato la sua intenzione di non mettermi ci nemmeno nella sua epigrafe e così, per pura gelosia, mi rifiutavo di stare ad ascoltarla. Poi ci calmammo. Prese a parlarmi una volta di più di quando lei e Alberto erano ragazzi. Se volevo proprio sapere la verità, tanto lei quanto Alberto avevano sempre provato una grande invidia nei confronti di chi, come me, aveva la fortuna di studiare in una scuola pubblica. Ci credevo, arrivavano al punto di aspettare ogni anno con ansia l'epoca degli esami soltanto per il gusto di andare anche loro a scuola. «Ma perché, se vi piaceva a tal punto andare a scuola, studiavate poi a casa?» domandai. «Il papà e la mamma, la mamma soprattutto, non volevano assolutamente. La mamma ha sempre avuto l'ossessione dei microbi. Diceva che le scuole sono fatte apposta per spargere le malattie più orrende e non è mai servito a niente che lo zio Giulio, ogni volta che veniva qui, cercasse di farle capire che non è vero. Lo zio Giulio la prendeva in giro, ma lui, sebbene medico, non ci crede mica tanto alla medicina. Crede anzi all'inevitabilità e all'utilità delle malattie. Figurati se poteva farsi sentire dalla mamma, che dopo la disgrazia di il nostro fratellino maggiore morto prima che Alberto e io nascessimo nel 14, si può dire che non abbia più messo il naso fuori di casa. Più tardi ci siamo un po' ribellati, si capisce. Siamo riusciti ad andare tutti e due all'università e perfino in Austria a sciare un inverno, come mi sembra di averti già raccontato. Ma da bambini che cosa potevamo fare? Io molto spesso scappavo. Alberto, no, lui è sempre stato di gran lunga più tranquillo, di me molto più ubbidiente. D'altra parte, un giorno che c'ero rimasta un po' troppo tempo, in giro per la mura, a farmi portare sui tubi delle biciclette da una banda di ragazzi con cui avevo fatto amicizia, quando sono tornata a casa li ho visti così disperati. La mamma e il papà, che da allora in poi, perché Nicole è di pasta buona a lei, un vero cuor d'oro. Dall'ora in poi mi sono decisa a fare la brava e non sono scappata più sola. Sola recidiva quella del giugno ventinove, in onor suo, egregio signore. E io che pensavo di essere stato l'unico, sospirai. Beh, se non l'unico, l'ultimo di sicuro. E del resto, a entrare in giardino, non ho mica mai invitato nessun altro. Sarà vero? Verissimo. Guardavo sempre dalla parte tua, al tempio. Quando ti voltavi indietro a parlare col papà e con Alberto, avevi occhi talmente celesti. Ti avevo dato in cuor mio perfino un soprannome. Un soprannome? E quale? Celestino. Che fece per viltà del gran rifiuto? Borbottai. Addirittura! Esclamò ridendo. Comunque credo proprio che per un certo periodo ho avuto per te una piccola cotta. E poi? Poi la vita ci ha divisi. Che idea però di mettere su un tempio tutto per voi? Cos'è stato? Sempre per paura dei microbi? Accennò con la mano. Eh, quasi, disse. Come quasi? Ma non ci fu un modo di indurla a confessare la verità. Sapevo bene per quale motivo il professore Ermanno, nel 33, avesse chiesto di ripristinare per sé e i suoi la sinagoga spagnola. Era stata la vergognosa infornata del decennale, vergognosa e grottesca, a deciderlo. Lei tuttavia sosteneva che determinante, ancora una volta, era stata la volontà della mamma. Gli Herrera, a Venezia, appartenevano a scuola spagnola. E siccome la mamma, la nonna Regina e gli zii Giulio e Federico avevano sempre tenuto moltissimo alle tradizioni di famiglia, allora il papà, per far contenta la mamma... Ma adesso scusa, perché siete rientrati a scuola italiana? Obiettai. Io non c'ero al tempio la sera del Rosh Hashanah, non metto piede al tempio da almeno tre anni. Mio padre, però, che c'era, mi ha raccontato la scena per filo e per segno. Oh, non tema, la sua assenza è stata moltissimo notata, signor libero pensatore, rispose, anche da me. Tornò seria e poi... Cosa vuoi, ormai siamo tutti quanti sopra la stessa barca. Al punto in cui ci troviamo continuare a fare tante distinzioni, trovo anch'io che sarebbe stato piuttosto ridicolo. Un altro giorno, l'ultimo, si era messo a piovere e mentre gli altri riparavano nella hutte a giocare a ramino e a ping pong, noi due incuranti di inzupparci attraversammo correndo mezzo parco per andare a rifugiarci nella rimessa. La rimessa attualmente funzionava soltanto da rimessa, mi aveva detto Mikol. Un tempo, tuttavia, una buona metà del vano interno era stata attrezzata a palestra, con pertiche, funi, asse d'equilibrio, anelli, spagliera svedese, eccetera. E questo al solo scopo che lei e Alberto potessero presentarsi ben preparati anche all'annuale esame di educazione fisica. Non erano certo lezioni molto serie quelle che il professor Anacleto Zaccarini, da anni in pensione e più che ottantenne figurarsi, impartiva loro una volta alla settimana. Divertenti però sì, forse le più divertenti di tutte. Lei non si scordava mai di portare in palestra una bottiglia di vino di bosco e il vecchio Zaccarini, diventando da rosso di naso e di guance, qual era normalmente via via più paonazzo, se la scolava pian piano fino all'ultima goccia. Certe sere d'inverno, quando se ne andava, pareva addirittura che emanasse luce propria. Si trattava di una costruzione di mattoni bruni, bassa e lunga, con due finestre laterali difese da robuste inferiate, col tetto spiovente coperto di tegole e con le pareti esterne nascoste quasi per intero dall'edera. Non lontana dal fienile dei perotti e dal vitreo parallelepipedo di una serra, vi si accedeva attraverso un ampio portone verniciato di verde, che guardava dalla parte opposta alla mura degli angeli in direzione della casa padronale. Restammo un po' sulla soglia, addossati al portone. Pioveva a dirotto, a strisce d'acqua oblique e lunghissime, sui prati, sulle grandi masse nere degli alberi, su tutto. Faceva freddo. Battendo i denti, guardavamo entrambi dinnanzi a noi. L'incantesimo a cui fino allora era stata sospesa la stagione si era rotto irreparabilmente. Vogliamo entrare, proposi alla fine, dentro farà più caldo. All'interno del vasto stanzone, in fondo al quale, nella penombra tralucevano le sommità di due lustre bionde pertiche da palestra, alte fino al soffitto, aleggiava un odore strano, misto di benzina, olio lubrificante, vecchia polvere e agrumi. L'odore era proprio buono, disse subito Micol, accorgendosi che tiravo su col naso. Anche a lei piaceva molto. E mi indicò, accostata ad una delle pareti laterali, una specie di alta scaffalatura di legno scuro, gremita di grossi frutti gialli e rotondi, più grossi delle arance e dei limoni, che prima d'allora non avevo mai veduto. Si trattava di pompelmi messi lì a stagionare, mi spiegò, prodotti in serra. Non ne avevo mai gustato, domandò poi, prendendone uno e offrendomelo da affiutare. Peccato che lei non avesse lì un coltello per tagliarlo in due emisferi. Il sapore del succo era ibrido, assomigliava a quello dell'arancia e a quello del limone, con in più una punta d'amaro del tutto particolare. Il centro della rimessa era occupato da due vetture affiancate, una lunga di lambda grigia e una carrozza blu, le cui stanghe rialzate risultavano appena più basse delle pertiche retrostanti. Della carrozza ormai non ce ne serviamo più, diceva intanto Nicole. Le poche volte che il papà deve andare in campagna si fa accompagnare con la macchina. E la stessa cosa facciamo io e Alberto quando ci tocca di partire, lui per Milano, io per Venezia. È l'eterno perotti a portarci alla stazione. A saper guidare in casa non ci sono che lui, guida malissimo, e Alberto. Io no, non ho ancora preso la patente e bisogna proprio che la primavera prossima mi decida, purché il guaio è che beve talmente questo macchinone. Si avvicinò alla carrozza, dall'aspetto non meno lustro ed efficiente dell'automobile. La riconosci? Aprì uno sportello, montò sedette. Infine, battendo con la mano sul panno del sedile accanto a lei, mi invitò a fare lo stesso. Salì e sedetti a mia volta alla sua sinistra. E mi ero appena accomodato che ruotando lentamente sui cardini per pura forza d'inerzia, lo sportello si chiuse da solo, con uno schiocco secco e preciso da tagliola. Adesso lo scrosciare della pioggia sopra il tetto della rimessa aveva cessato di essere udibile. Pareva davvero di trovarsi dentro un salottino, un piccolo salotto soffocante. «Come la tenete bene?» dissi senza riuscire a padroneggiare un'improvvisa emozione che mi si riflette in un lieve tremito della voce. «Sembra ancora nuova, non ci mancano che i fiori nel vaso. Oh, per i fiori però ti mette anche quelli quando esci insieme con la nonna. Dunque l'adoperate ancora? Non più di due o tre volte all'anno e soltanto per fare qualche giro in giardino. E il cavallo è sempre lo stesso, sempre il solito star, a ventidue anni. Non l'hai veduto l'altro giorno in fondo alla stalla. È ormai mezzo cieco, ma attaccato qui fa ancora una pessima figura!» scoppiò a ridere scuotendo la testa. «Perotti per questa carrozza ha una vera mania», continuò amaramente. «Ed è soprattutto per far piacere a lui. Odia e disprezza le automobili, non puoi credere fino a che punto, se di tanto in tanto gli diamo da portare a spasso la nonna su e giù per i viali. Ogni dieci, quindici giorni viene qua con secchi d'acqua, spugne, pelli di daino, battipanni, ed ecco spiegato il miracolo. Ecco perché la carrozza, meglio se vista tra il lusco e il brusco, riesce tuttora a darla abbastanza da bere». «Abbastanza?» protestai. «Se sembra nuova». Sbuffò annoiata. «Non dire stupidaggini, per favore». Mossa da un impulso imprevedibile, si era scostata bruscamente, rannicchiandosi nel suo angolo. Le sopracciglia corrugate, i tratti del viso affilati dalla stessa espressione di strano livore di quando certe volte, giocando a tennis, si concentrava tutta per vincere, guardava davanti a sé. Pareva di colpo, invecchiata di dieci anni. Restammo qualche attimo così in silenzio, poi senza cambiare posizione. Le braccia raccolte attorno alle ginocchia abbronzate, come se sentisse un gran freddo, era in calzoncini corti e maglietta di filo con un pullover annodato al collo per le maniche, Nicole riprese a parlare. «A voglia, Perotti», diceva, «di spendere per questa specie di penoso rottame tanto tempo e tanto sugo di gomiti. No, da retta a me. Qui, in questa semi-oscurità, uno può anche mettersi a gridare al miracolo, ma fuori, alla luce naturale, non c'è niente da fare. Infinite magagnette saltano subito all'occhio. La vernice qua e là è partita. I raggi e i mozzi delle ruote sono tutti un tarlo. Il panno di questo sedile, adesso non puoi rendertene conto, ma te lo garantisco io, è ridotto in certi punti ad una tela di ragno. Per cui mi domando, a che scopo tutta la struma di Perotti? Ne vale la pena? Lui, poveretto, vorrebbe strappare al papà il permesso di riverniciare tutto quanto, restaurando e impastocchiando a suo piacere. Però il papà nicchia al solito e non si decide. Tacque, si mosse appena. Guarda invece là il sandolino, proseguì e mi indicava nel mentre, attraverso il vetro dello sportello che i nostri fiati cominciavano ad annebbiare una bigia sagoma oblunga e scheletrica, accostata alla parete opposta a quella occupata dallo scaffale dei pompelmi. Guarda invece là il sandolino e ammira, ti prego, con quanta onestà, dignità e coraggio morale lui ha saputo trarre dalla propria assoluta perdita di funzione tutte le conseguenze che doveva. Anche le cose muoiono, caro mio. E dunque, se anche loro devono morire, tant'è meglio lasciarle andare. C'è molto più stile oltretutto, ti sembra?